Grazie a tutti. 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 Questa mi sembra una buona idea perché il fatto di associarsi non è l'impegno della sponsorizzazione. Intanto prendo parte, posso fare una strategia quantitativa. Che cosa do in cambio all'associato? Perché l'azienda, ok, a questo punto il problema economico è minore, devo capire, io essendo associato di guadagnare... Se loro mi danno 50 euro l'anno che devo dare un paio di serate da presentare i loro prodotti. con 50 euro, ma per l'amore di serate da 500 euro, ma che è un paio di serate da 500 euro, ma che è un paio di serate per 50 euro? Non è un paio di serate per 100 euro, ma che è un paio di serate per 100 euro, ma che è un paio di serate? Con le aziende, con le persone di aziende, eccetera, anche nel tuo gruppo di persone che ti seguono, ci sono relazioni. Questa potrebbe essere una cosa, perché tu lo vai lì con un defiantino, diventa associato, i vantaggi per il socio, i vantaggi per noi, i vantaggi per il territorio. E questa è una cosa semplice, tanti cominciamo a fare massi. Si possono preparare dei pacchetti? A 100 euro, sembrano un'ottima idea. Ti vedete, parecchio loco di umano, però va bene. Guarda, ma i primi anni è così. 50 euro quest'ultimo proprio categoria per spendere. Perché ci sono 50 euro? Guarda, io direi... 500 euro. 500 euro è forse di un po' di un po' di un po' di un po' di un po'. 300 euro è rilevare. 3 rilevare. 3 rilevare. 3 rilevare. Grazie. 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 E chi li frena più questi? Mi sentono? Allora? Ok, grazie. Perfetto. Allora, signori, facciamo un po' di restituzione e vediamo un po' che esce fuori. Allora, per fare la restituzione non facciamo tutto quanto il ragionamento. Il ragionamento l'abbiamo seguito tavolo per tavolo. Allora, per favore, fra le aziende che avete individuato, categorie di aziende, prendiamone proprio come gioco una e provate, adesso senza farci grandi problemi, senza fare tutto proprio il gioco, la sceneggiatura, come ci dobbiamo comportare, tanto su tutte cose secondarie, e cerchiamo di formalizzare la proposta che faremmo se andassimo effettivamente da questa azienda, ok? Inclusa una richiesta economica. Da chi partiamo? Quindi prendete un'azienda, fra le tante, a noi ci serve sempre per fare questo laboratorio, e non per altro... Chi è che ha proprio le idee chiare in testa? Eh? 100%? Tu? Perfetto. Ok, allora partiamo da qua. Musica a impatto zero. Dovete sentire tutti, eh? Perché dovete anche aiutarci a valutare se la cosa funziona o meno. Niente, proprio il museo del gusto ha appiato la sua strada, l'abbiamo perso, l'abbiamo perso. Scarica, l'abbiamo perso dottore. Ok, attenzione, perché questo ci serve a tutti quanti e voi servite anche a loro per avere un feedback. Allora, a chi ci rivolgiamo? Allora, ad un'azienda locale di costruzioni. Di costruzioni. Loro si rivolgono, loro sono musica, festival, musica a impatto zero. Vanno da un'azienda di costruzioni, ok? E allora, l'azienda di costruzioni ti chiede perché siete venuti da me? Allora, noi organizziamo l'unico festival a impatto zero nel Salento. Bene. Facciamo parte di una rete di festival socialmente responsabili e vorremmo coinvolgerla. Sentite voi? Sì, perfetto, sento. Ok. Quindi vorremmo coinvolgerla nella costruzione del nostro prodotto. Che prodotto fate voi? Nell'organizzazione del festival. Ah, il festival, ok. Quindi a livello logistico. Però io sono un costruttore prodotto, ma immagino che è un motone, una finestra. Va bene, va bene, va bene. Non andiamo per il sottile, Massimo, su, avanti. Da non utilizzare. E quindi, che dicevamo? Dicevamo, qual è questa iniziativa, questo festival? Io le ho chiesto perché lei è venuta da me? Noi siamo questo festival, l'ho capito, impatto zero. Che bello, non producete impatto. E quindi perché sei venuta da me? Allora, vorremmo un partenariato, era la parola giusta? Sì, un partenariato. Di lungo periodo, in quanto il nostro festival... Vi devo costruire qualche cosa? No, lei può aiutarci a sostenere finanziariamente i nostri servizi, però in maniera alternativa. No, alternativa non si usa la modella. Innovativa, va. Innovativa, ok. Allora, avendo già un accordo con un'azienda locale che si occupa di smaltimento di rifiuti... L'AXA, probabilmente la conosco, se sono costruttore la conosco, credo. Con l'AXA, l'azienda che cura... Esatto, che cura lo smaltimento locale dei rifiuti, vorremmo realizzare una sorta di scambio. Quindi noi svuotiamo i magazzini dai rifiuti scarti di... A costruttore. Sì. Mi scusi, quanti tiri avete? No. Allora, prenderemo alcuni scarti della sua produzione per creare delle installazioni artistiche nella location e nei luoghi circostanti del nostro festival. Quindi in questo modo lei... Può venire qui e prendere tutto il materiale che vuole, guardi, non c'è problema. Ok, perfetto. Evita appunto... D'accordo così, allora lei mi dà un colpo di telefono prima, così io faccio accedere al magazzino, al coso, al coso, lei prende tutto il materiale che vuole, va bene? Perfetto, però in realtà... Però... Però vai trovare il mio... Però, scusate... Sotto il mattone, eh? Allora, sì, niente, quindi noi le stiamo fornendo un servizio perché non dovrà poi pagare i costi di smaltimento all'AXA, ma appunto a fronte di questo servizio... Ribadisco, quanti tiri avete? Noi le chiediamo un contributo per questo servizio che noi le facciamo. Quindi lei mi sta offrendo un servizio che io devo comprare? Sì. No? No, non è vero. Se tu sei una cooperativa non puoi vendere un servizio di smaltimento ai rifiuti. No, non sto vendendo un servizio. Stai facendo un'azione volontaria tu. Esatto. Ok, quindi mi chiedi un contributo che non è pagare il servizio, perché io già pago l'AXA l'AXA deve venire qui a ritirarmi la roba oppure io gliela devo mandare, per me è una rogna, quindi già pago l'AXA e devo pagare te. No, no, no. No, non stiamo... Un contributo, per che cosa? Allora, noi utilizzeremo, vabbè, questo contributo ci servirà proprio per organizzare il nostro festival. Ok, stiamo cercando dei sostenitori ai quali offriamo, visto, tu gli devi dire una cosa, l'idea ci sta qui, attenzione, c'è l'idea poi tutto da verificare. Nell'ambito di questa manifestazione che è legata alla musica e all'impatto zero, noi lanciamo una grande campagna di sensibilizzazione e mobilitazione sul riciclo e il recupero di materiali che invece altrimenti tendono a produrre un impatto, che noi nel Salento non ci possiamo permettere di tenere, perché il Salento avrà un futuro se avrà sempre di più impatto zero. Questo è quello che si chiede al Salento e lei lo sa meglio di me. Quindi noi, in accordo con AXA, che è un partner fondamentale, ti garantisce tecnologia, che tutto non vada a finire, discarica, eccetera, eccetera, raccogliamo, poi ci mettiamo d'accordo, il suo materiale che per lei è una rogna, perché è discarica, e con questo materiale ci facciamo. A, un'operazione artistica, viene usato per fare installazioni durante il nostro festival, eccetera, B, per in quella settimana, in quei giorni, fare un'azione straordinaria, far vedere come organizzandosi si possa far prendere la strada giusta a questi materiali, semplificando un po' la vita per tutti. Quindi, che cosa le propongo? A, di essere partner dell'iniziativa, sostenerla perché questo ha un costo. B, in cambio che cosa avrà? Le veniamo a prendere i materiali, con AXA e tutto quanto, tu hai dovuto fare un accordo con AXA, apriamo se ti chiederò, ma avete già un accordo con AXA? Sì. Ok, perfetto, poi se mi manda gentilmente una copia dell'accordo, ok, però va bene, le credo, ok? Quindi noi le diamo, uno, vi veniamo a prendere il materiale, ci mettiamo d'accordo sulla quantità che è compatibile, ma comunque una cosa significativa, insieme ad AXA. B, il suo marchio, la sua azienda sarà presente vicino alle installazioni, questa installazione è stata fatta nel quadro della campagna straordinaria, grazie a C, sarete presenti sui nostri strumenti di comunicazione e quindi vi potrete fare pubblicità in cambio di questo contributo. Tenga conto, caro dottore, che il nostro piano di comunicazione prevede, grazie a un accordo con Puglia Promozione, che noi saremo presenti su tutti i canali ordinari con i costi della regione, sono fondi europei, sfruttiamoli intelligentemente, quindi il nostro festival e anche questa iniziativa passerà attraverso questi canali, a parte la nostra pubblicità, che certo non è la pubblicità di un grande marchio, ma abbiamo totte locandine, totte inviti, 4.000 spettatori, parapà, 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 parapà. Che mi dice dottore? Interessa l'articolo? Che ti dice il dottore? Quanto vuoi? Voglio 1.000 euro, sono troppi. In ogni caso senza punto interrogativo, in ogni caso, qualunque cifra sia senza punto interrogativo, perché io posso avere due atteggiamenti, io vengo verso di te con un atteggiamento paterno, ti do una carezza, ti do un bacio, eccetera, oppure mi volto alle lato della sedia e faccio boh! Ma lo sto chiedendo a lei, 1.000 euro andrà bene? 1.000 euro dipende, ecco qui veniamo al punto del costo, noi non stiamo facendo business, il nostro primo termine di paragone è quanto dobbiamo portare a casa, noi tutto l'Ambaradam abbiamo detto che costa 7.000 euro, se io ho in testa che 7.000 euro li faccio con 5 aziende, dovrò chiedere una media, allora ho chiesto a tutti quanti uguale, 7 aziende, 7 opere, 1.000 euro ad opera e quindi mi devo attrezzare a fare 1.000 installazioni, mattoni, perché dice vabbè ma starò in mezzo a 1.000 marchi, no no no, mattoni, installazione mattoni, azienda sua, chiaro? Oppure posso pensare che riesco a fare delle offerte da 2.000, da 3.000 e delle offerte da 1.000 in cui però dovrò differenziare in qualche modo lo spazio che io do a loro, su questo ci si lavora via di seguito. Quindi te l'importante, io quello che consiglio quando non c'è business, non lo consiglierei a loro che devono fare business, ma nel tuo caso è di partire sempre a quel parametro. Dottore, il nostro scopo, noi siamo una cooperativa, siamo un'associazione, il nostro scopo è fare bene l'iniziativa e fare un bel servizio alla realtà, alla società. Noi per fare questa cosa qui abbiamo un fabbisogno di 7.000 euro, è nell'arco di questi 7.000 euro che dobbiamo trovare dei partner che ci assistono. Stiamo lavorando a trovare un pool di 5-7 aziende, quindi il contributo che mi sento di chiederle, perché a copertura dei nostri costi, è di 1.500-2.000, ma allargo un po' perché ti ha detto Massimo che c'è la trattativa. Questo è un buon monoschema, almeno che tu non hai un prodotto da business come le carte, è in cui è evidente che gli do un valore che va molto al di là del costo di produzione e allora devo tenere conto, se so 200 mazzi decarta il loro valore di mercato è 4 euro l'uno, per dire non gli posso chiedere meno di 800 euro, adesso mi sono perso nei conti, perché gli sto svendendo una cosa, mentre invece il mio costo di produzione è meno, ma che lì ci sia profitto non c'è dubbio, l'azienda mica si sconvolge, da te si sconvolgerebbe se ci fosse profitto, quindi non è un prezzo, è un contributo chiesto in relazione al fatto che io devo avere determinate risorse per farlo. Ok? Secondo voi funzionava ad andare a dire a un'azienda una cosa del genere, un'azienda di costruzioni che ha materiale da dar via? Come no? Aggiustata come l'aggiustata lei alla fine? Vabbè adesso la sapete, questo fa parte della lezione, l'idea, l'idea, tu? L'idea è meravigliosa ma... Ma, oh finalmente, prego. Non è un servizio quello che ti conosci, nel senso che non c'è, all'inizio è venuta come un servizio, ma giustamente più c'è quasi quanti tier dispongi, perché alla fine quanto mai ti andrai a recuperare? E questo dipende molto dall'accordo con AXA, perché la cosa potrebbe funzionare così, che in quella è una settimana straordinaria, è una settimana straordinaria, se AXA ha interesse, quindi dovrei concordare anche con AXA il tipo di azienda, perché AXA dice guarda che io con i materiali edilizi, non lo so per ignoranza, non mi conviene per dire, facciamolo sull'alluminio, facciamolo su questo e AXA sa benissimo quali sono le aziende che hanno problemi di questo genere, ok? Fatto questo, che serve per preparare bene il prodotto e non andare inutilmente da un costruttore che poi AXA ti dice non mi interessa, e allora potrebbe essere due cose, questa innanzitutto è una settimana straordinaria, come a Roma pure si fa, settimana straordinaria, lama, che è l'analogo dell'AXA, fa dei punti raccolta, tu vai con la macchina, scarichi la roba, perché altrimenti dovresti andare in discarica, un macello, però solo quella settimana, allora io posso fare due cose sostanzialmente, questa è una campagna di sensibilizzazione straordinaria in cui noi possiamo dare un segnale al mondo che si può fare, si può fare bene e che voi anzi lo fate bene, ecco perché io dicevo, poi ci mettiamo d'accordo sulla quantità del materiale, perché un pezzo va a fare l'installazione, ma se quello ti dà tre tire di mattoni, un pezzo va all'installazione e il resto deve andare in discarica e qui ci vuole l'accordo con l'AXA, quindi l'AXA dovrà dire, certo l'AXA dovrà dire a valle dell'iniziativa, questa iniziativa ha permesso di più 400% raccolta materiale edilizio, più 200%, cioè deve restituire il fatto che con la mobilitazione e la sensibilizzazione abbiamo fatto aumentare, diffuso la cultura e fatto rodere il chiccherone alle aziende che non l'hanno fatto, perché tutto ciò, ecco l'altra cosa che posso offrire, tutto ciò nell'ambito della nostra iniziativa, della nostra comunicazione in qualche modo è un marchio di sensibilità ambientale delle aziende, l'ho fatto, questa azienda ha contribuito a rendere l'impatto zero, marchio AXA, marchio vostro, è sempre una certificazione di cui io mi beo, se sono l'amministratore delegato e mi arriva una bella targa, questa azienda ha contribuito e ha contribuito ad aumentare del 200% la raccolta differenziale dei rifiuti me la metto sta targa all'ingresso dell'azienda, non c'è dubbio, c'è la targa quindi sali a 8 mila euro perché la targa la devi fare bellina, però attenzione no ma in realtà una cosa del genere, noi l'abbiamo già fatta, senza il giro, senza farvi dare soldi, senza il contributo, senza nulla, abbiamo semplicemente svuotato di bancali un magazzino di un'azienda, senza farvi dare soldi, contributi né niente, no assolutamente e che caso con l'AXA appunto, poi l'AXA si è occupata di smaltire tutto quello materiale ah quindi il meccanismo diciamo funziona, c'è un precedente, guarda potresti anche dire noi abbiamo già fatto un test di questa cosa, ha funzionato molto bene, l'abbiamo fatto come test, non sappiamo se l'AXA ci vuole ancora, è stata una bomba, quindi per questo che ci permettiamo adesso di fare proprio eh no perché il servizio deve dare l'AXA, sì sì, esatto, io posso aggiungere alla fine giustissimo, hai perfettamente ragione, posso aggiungere, certo, no però io posso aggiungere alla fine come botta, diciamo come battuta, posso anche dire, peraltro facciamo anche una cosa utile perché lei è così, comunque libera di una parte del materiale senza doversi addannare l'anima, ci pensiamo noi con l'AXA e via di seguito, cioè questo posso dirlo però c'ha ragione lei, non è proprio un servizio in senso stretto, intanto è vero che la prima domanda è che ho chiesto quanto costa sto servizio, va bene, molto bene, secondo e mo' lo dovete fare all'impronta, dai carte, carte, carte da gioco, su, che sennò il tempo vola, forza, ci proviamo, allora carte da gioco a chi si rivolge? Allora, un produttore abbastanza importante di ceramica ceramica, produttore di ceramica artistica oppure da costruzione? No, no, ceramica artistica, ceramica artistica, di design, ottimo, benissimo è abbastanza importante in Salento e appunto siccome tra i semi che rappresentano le carte abbiamo tutto un lavoro sulla ceramica, sia storico che di forma, ci rivolgiamo a lui Vende in tutto il mondo, vero? E anche sì, una diffusione internazionale, sì Vende in tutto il mondo, chiaramente un pochino più in Italia, ma vende in tutto il mondo Vabbè, non è che ne avete... Ce ne sono pochi, dai Sta a cutro, ci proviamo con Colì Allora, partendo dal presupposto che stiamo in ballo con questo aspetto di Puglia No, aspetta, 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 io sono il signor Colì Ah, ok, scusami Vai, parti Magari Mezzo alle ceramiche che mi piacciono tanto Allora, sì, ovviamente le facciamo vedere il prodotto Che cos'è? È un mazzo di carte ispirato alle riti, miti, storie del territorio È il primo, l'unico mazzo di carte salentine Ok Lo sapeva che da un anno o due anni abbiamo le carte salentine, non più le napoletane, le salentine? Le abbiamo inventate noi Ne abbiamo già venduti 8.000 pezzi Perfetto Perché qui tu stai nel business Lì non devi sparare, devi fare il sociale Qui stai nel business L'azienda ti dirà sicuramente delle cose che tu devi dividere per due Per due, per due E quindi lui è abituato a dividere per due Tu dici 8.000, non ha venduti 2.000 pezzi È proprio una regola, c'è proprio capito, una proporzione Lui prende sempre un terzo Tutto registrato, mi manderanno veramente in galera Allora, noi le offriamo a fronte di un contributo economico La possibilità di personalizzare il mazzo Quindi l'astuccio È fatto in ceramica? Sono carte di ceramica? No, sono carte Ah È spiritoso quelli No, un valore aggiunto del progetto è che sono state stampate da Modiano Quindi Tenga presente che sono carte serie Non sono carte cinesi Benissimo Le personalizzo Come le personalizzo, dottore? Allora, noi abbiamo la possibilità di offrirle lo spazio sul mazzo Sull'astuccio Si può personalizzare l'astuccio con Scusi, ma perché è venuto da me? Io faccio ceramica, non faccio carta, non faccio roba da gioco Io vedo per la cuscita C'è un intero seme dedicato alla ceramica Che sono le brocchie Le brocchie, benissimo Nel quale raccontiamo appunto tutta la storia della ceramica La simbologia Adesso ho capito La simbologia usata nella ceramica nel territorio salentino Che è appunto un indotto che dall'Euca fino a Grottaglia si è sviluppato Lo so Fino a cento anni fa Sono nella ceramica da otto generazioni Abbia pazienza Ci mancherebbe Abbiamo messo il galletto Ci abbiamo messo il ferellino Il galletto quello salentino originale Il galletto salentino Quello che usa lei nella produzione Molto carino, va bene Insomma l'idea è questa Noi creiamo questo gadget Che lei può acquistare in maniera personalizzata Cioè diciamo che sono oggetti unici se vogliamo Nel senso che il marchio Non tutti possono avere il mazzo personalizzato Il mazzo esce in produzione con il nostro marchio Ma per lei ha la modica cifra di Che ci faccio io con questo mazzo di carta? Allora l'idea è questa Si può associare ad un Come gadget Il museo è in cartellino giallo Il prossimo è rosso Il prossimo è rosso A casa Si può associare come gadget Non posso manco andare a casa perché c'è ospite Che stanno già a casa Vai Che ci faccio io? Rispondi Allora Si può associare come gadget Ad un prodotto particolare Insomma dell'azienda Oppure può essere donato ai dipendenti Come mezzo di... No guardi Come no? Penso che non mi interessa Cioè Abbia pazienza Adesso ho un'altra riunione Però non è che Chi mi viene a comprare la ceramica Va a cercare da me un qualche cosa Però c'è un prodotto C'è un progetto molto più complesso Ora non è finito Dice mio zio napolitano Ma che ci ho capo Che sta roba qua E poi dall'altra parte I dipendenti I dipendenti in questo momento Le do il mazzo di carta Me lo tirano appresso Abbia pazienza Ho bisogno dell'aumento di stipende Non hanno il lavoro sicuro Le do il mazzo di carta Ma veramente a me me lo fanno il mazzo Cioè No la ringrazio Non mi interessa Ok Ma che te ok No no C'è un progetto molto più complesso Non finisce qui chiaramente Cioè tu non mi hai fatto capire Una virgola Di valore aggiunto Che io posso avere Non ti ho manco chiesto Quanto costa il mazzo di carta Perché magari ti dico Vabbè dammene 100 copie E te Piedi 100 euro Ciao Manco te l'ho chiesto Perché proprio non mi si è acceso il cervello Quindi ritorna al link Perché sei venuto da me Perché hai bisogno Tu mi hai risposto Perché tu hai bisogno di gadget E io t'ho detto No 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 Non ho detto questo L'idea è Eh vabbè ho capito Ma ti sei perso su quello Hai detto Perché qui dentro c'è la ceramica E infatti ho fatto il cretino E ti ho domandato Ma perché l'hai fatta di ceramica No c'è il galletto E io ho fatto Interessante Lei lo può personalizzare E regalare ai dipendenti Capito? C'è ovviamente un legame forte con la terra No? Vabbè ma io che ce faccio Che c'è il legame T'ho già detto di sì Che ce faccio con sto legame Cioè che mi serve a me come azienda? Beh c'è un Ovviamente noi abbiamo Dalla nostra Come ve l'ho raggiunto Tante cose Che sono Tutto come dicevo Il prodotto d'elite Di classico Cioè fatto per bene Da Modiano Me l'ha già detto Secondo Legare Legare il suo marchio Al nostro Mi scusi Come si chiama il vostro marchio? Le Salentine Le Salentine Mario Hai sentito parlare Delle Salentine? No Non fare il cretino Non sto parlando Delle ragazze Salentine Capito? Eh Abbi pazienza Va bene Sì mi leggo Credo che lei Abbia interesse A legarsi al mio marchio Non io A legarmi al suo Con tutto il rispetto Per la sua casa editrice Sinceramente Credo che lei Abbia vantaggio Se andiamo avanti così Sarò costretto A chiederle dei soldi Comunque Provo a raccontarle L'intero processo Lei mi deve dire Quale vantaggio Ho io A legarmi a lei Poi vediamo Se mi personalizzo Il mazzo Se sponsorizzo Quale vantaggio Mi porto a casa? Il link C'è il galletto Al mio testo C'è la ceramica Perfetto C'è il Salento Ok Qual è il vantaggio? Allora Il progetto prevede Una Un numero X Di presentazioni Sparse nel Salento Lei sta inventando No no È reale Numero X Lei sta inventando No Presenteremo Il progetto All'interno Di varie Iniziative Nel Salento Nelle quali Il suo marchio Potrebbe essere presente Sia sull'intera comunicazione Ovviamente Lei lo sa Quanto spendo io In comunicazione? Non so Non lo sa Non se ne rende conto Secondo lei Io come faccio A vendere in tutto il mondo Le mie ceramiche Come faccio ad avere persone Che vengono qui? Lei ha visto Quando arriva a Cutrofiano Che cosa ci sta Dica lì È gigantesco Quello mi serve per vendere Certo Che lei mi va Al torneo di carte Con il mio marchio A me non mi sposta Una virgola Abbia pazienza Mi piacciono queste carte Gli ne compro Cento mazzi Perché mi piace giocare Le regalo ai miei amici Non c'è dubbio È stato un piacere Conoscervi È un'idea splendida Però a me come azienda Non ci faccio Letteralmente Nulla Per quello che lei mi ha detto Ok Non so se mi spiego Certo Beh è così All'atto pratica No no è chiaro Ma infatti E devi tirare fuori Anche una cosa a monte Eh Sulla quale Vediamo quello che è rimasto a monte Facciamo Facciamo finta Perché in realtà Facciamo finta Ci stiamo lavorando Va bene Adesso siamo tornati Nella lezione Che si chiude Un accordo Con Puglia Promozione Quindi la possibilità Di avere L'intera campagna Promozionale E la partecipazione Ad alcune fiere Quindi Fiere di che cosa? Fiere sul turismo Quindi parliamo di turismo Ci vengono i turisti? Ci vengono anche Operatori del settore E turisti Mi puoi dire gentilmente Quanto è il numero di presenze Quali sono le fiere Dove sono si dislocate? Oddio C'è la bit di Milano Che per esempio Ci avrà Centomila persone Per esempio La bit Interessante Quindi E questo ci pensa La regione Puglia Sì Avremo uno stand dedicato Insomma E voi andate lì Con le vostre carte Perfetto Potremmo associare Se gentilmente Mi fa avere Un elenco delle mostre Un calcolo delle presenze E lo chiede a chi organizza Le mostre Dei passaggi Visitatori E poi gentilmente Una copia dell'accordo Che state facendo Con Puglia E poi magari Ci risentiamo per telefono Ok Era quello E poi infatti Stavo E ho capito Ma Coli C'ha il forno Che sta scoppiando E deve tirare fuori Le ceramiche Prima che saltano in aria C'ha gli operai Che gli stanno bruciando L'ufficio Perché gli deve pagare I contributi Eccetera Cioè C'ha ragione Capito? Chiaro E quindi tu devi andare Alla cosa principale Poi se Coli Sta godendo Gli dai l'intorno Gli racconti il profumo Delle carte Tutto quello che ti pare Ma lui Sta lì per vendere Ceramica Quindi lui la prima cosa Che si domanda Mi serve o non mi serve Nei primi cinque minuti Lui deve almeno percepire Che ci può essere Un'opportunità per lui Se non la percepisce Stacca la spina Perché la deve Trovare dieci al giorno Di opportunità Quindi c'è un tempo limitato E il cervello È anche limitato Seleziona subito Ok? Ma a parte Diciamo questa cosa Che comunque è molto utile Perché noi dobbiamo Entrare in sintonia Con la nostra azienda E anche prepararci bene L'idea ci potrebbe stare Cioè loro aiutano Coli Ad andare lontano Attraverso questo mazzo Di carte Se veramente Voi ci avete St'accordo E state con gli stand Dentro le cose Siccome non chiedete Manco una cifra Da paura La cosa ci può stare E anzi da lì dico Io non ce l'ho lo stand A che ne so Bit Milano Perché non è roba Da ceramica Per me è interessante Perché posso indirettamente Portare la ceramica Al bit di Milano Sì è questo Ottimo Il link che si crea Poi se tu hai messo in piedi Il fatto che queste carte Vengono comprate Dai turistici Tornano a casa E ci vivono Nei loro paesi Sono collegati al sito Cioè voi mi avete tirato fuori Un sacco di roba Da vendegli da colì Sì Ci vuole un po' di tempo Ma è la prima cosa Che devi dire Tu gli devi far brillare gli occhi Ottomila contatti In internet Con persone da tutto il mondo Che sono passate Per il Salento E hanno avuto le carte Quello è capace pure Che dice Ma scusatemi Abbiate pazienza Io ve ne compro Diecimila pezzi Regalatele Ste cacchio di carte A me me conviene Perché il costo contatto È basto Ci metti dentro però Sì È fattibile Dentro possiamo mettere tranquillamente Eh ok Te le compro io Te le commercializzo io Lo pago e le regali Grazie È un dono di Calì Per chi ama il Salento Cioè mi sto comprando Un oggetto promozionale Capace che ti risponde così Calì Potrebbe Perché il suo contatore Ha detto Al bit non ci vado Così ci arrivo Nel mondo Arrivarci mi costa un sacco Non arriverò a tutto il mondo Ma arrivo alle persone Che sono state in Salento I turisti Un gentile cadò Calì 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 Quando ritornano Ci passano Come il sottoscritto Che c'è passato Perché è venuto qui A conoscenza di Calì Mica lo sapevo Poi Calì deve fare il suo mestiere Deve avere della ceramica bella Deve avere una pirofila speciale Con un marchio che funziona Ve lo posso dire Da Dio Da forno È una cosa meravigliosa Di terracotta Cuoce il pollo Che è una meraviglia Non si crina Fatta veramente bene So preparato Veramente ottimo Quindi c'è anche roba di qualità Va bene insomma C'è roba di qualità Bene Allora Qua Avanti A chi andiamo? Proviamoci Da chi stiamo andando? Dunque stiamo andando Da un'azienda Che si occupa Fate attenzione Di abbigliamento Giovanile Abbigliamento Metti in potto Dai si è capito Su Vabbè è un'ipotesi È un'ipotesi Metti in pot La conoscete tutti Abbiamo idea di che cosa sia Bene Perfetto E buono Buongiorno Prego Buongiorno Salve Noi siamo Chiara e Gabriella Dell'associazione 34esimo Fuso Ci stiamo rivolgendo a lei E abbiamo scelto E abbiamo scelto di rivolgersi a lei In virtù del premio Che lo scorso anno Ricevuto Allo Ma Per le nuove tecnologie Applicate alle aziende Per questo ruolo E per l'innovazione Portato all'interno Delle aziende Noi siamo da poco Vincitrici di un progetto Della regione Puglia Che riguarda proprio L'utilizzo Degli nuovi strumenti Dello web 2.0 Delle nuove tecnologie All'interno Delle istituzioni museali Della provincia di Lecce All'interno di questo progetto Che quindi risulta Già finanziato Noi abbiamo in mente Un'attività Che possa un po' Sviluppare Dare maggiore peso A quella che può essere La creatività Di questo territorio Facendolo risaltare Mettendolo in contatto Con creativi Provenienti un po' Da tutta Italia Quindi si tratta Di un contesto Di un concorso Che vengono a fare Questi creativi? Vengono a fare Una settimana Di residenza artistica Qui in Salento In cui si creeranno Questi gruppi di lavoro Formati da diversi creativi Che possono essere Designer Fotografi Videomaker Nuove tecnologie Applicate All'arte Ci sarà Un melting pot Tra praticamente Chi viene da fuori E chi praticamente Che dice? Prego Vado avanti Mazzate Ci sarà In pratica Questo melting pot Tra chi viene da fuori E le nuove Risorse artistiche Guardi che il mio Marchio costa E le nuove generazioni Che magari tentano Vorrebbero approcciarsi Al mondo Al mondo creativo Per cui ci sarà Una parte Di creativi senior Che saranno Un po' Da guru Per degli adolescenti Che vogliono approcciarsi Al mondo dell'arte Faranno una settimana Di residenza creativa In cui si confronteranno Che cosa produrranno? Produrranno ciascuno Nel proprio ambito Di riferimento artistico Un prodotto Cioè musica Pittura Fotografia Fotografia Videomaker Cioè dei contenuti Culturali Che tragano ispirazione Dagli ambienti museali O dal territorio Che musei sono Quelli coinvolti? I musei coinvolti Sono di diversa Faccio qualche esempio Sono un po' ignorante Mi scusi Un museo d'arte D'arte moderna Un museo preistorico Così come Una collezione Pinacoteca Ma ce ne potrebbero essere Degli altri E dove sono collocati Questi musei? Sempre in provincia di Lecce Quindi sono musei Della provincia di Lecce Sono musei Della provincia di Lecce Perché l'intento È quello proprio Che periodo si fa questa cosa? Il periodo In settembre Del prossimo anno Quanto sono visitati Questi musei? I musei non sono Ancora molto visitati Pensiamo Proprio con il nostro progetto Di aumentare Anche la fruizione Da parte Dei pubblici All'interno di questi musei Perché ci sono Una serie di attività Che noi faremo Per portare il pubblico All'interno Quindi praticamente Il risultato del lavoro Di questi melting pot Saranno innanzitutto Sono dentro al musei Saranno dentro al musei E sono un'occasione Per attrarre altre Esatto Sarà un contest Che produrrà una mostra temporanea Che sarà Che cosa mi proponete di fare? Io le proporrei Sostenere la nostra attività Questo contest Istituendo un premio Melting pot Che garantirà Ad uno degli adolescenti Creativi Che magari Ha una situazione sociale Non facilissima Che è anche a rischio Di abbandono scolastico La possibilità Di avere un anno di formazione Non riesco a spiegarmi Come uno che in abbandono scolastico Venga a fare una cosa del genere Perché molto probabilmente Ha solo la necessità Di avere un modo Per scoprire un talento Che è nascosto E quindi Allora forse ho capito male io Ma gli artisti Che vengono Per fare questo melting pot Sarebbero quelli All'interno dei quali C'è qualche d'uno Che non frequenta la scuola? Gli artisti senior Saranno praticamente I referenti dei gruppi All'interno dei quali Io andrei a fare Una borsa di studio Non per gli artisti Che hanno fatto Il melting pot Per i potenziali Nuovi artisti E come escono fuori Questi qui? Dalla fine del contest Perché ci sarà Una premiazione Perché questi giovani Diciamo una parte Dei quali potrebbero essere Disaggiati A rischio eccetera Partecipano al contest Esatto E come mi partecipano Al contest? Ce li andate a prendere Voi a casa? Noi non a casa Ma all'interno Delle istituzioni scolastiche Noi avremo Uno concorso aperto In cui accoglieremo Quindi attraverso le scuole Sì Quali scuole? Le case famiglia Case famiglia Per quelli più disagiati Certo Che fascia d'età Più o meno? Pensiamo intorno Fascia adolescenziale Sino ai 18 anni Giovanni Quanto vendiamo noi In quella fascia d'età? Questa potrebbe essere Un primo ragionamento Tanto A chi vendiamo Ok Va bene Che cosa mi chiedete di fare Concretamente Dottoressa Che cosa mi chiedete di fare Concretamente Che cosa mi propone Concretamente Le propongo concretamente Di sostenerci Con un contributo In denaro Di quanto? Di 5 mila euro Che ci aiuterà Nella realizzazione Del contest Che cosa devo fare Io dentro A questa iniziativa All'interno di questa iniziativa Lei sarà A parte sostenuto Da tutta un'azione Di pubblicità E marketing Che noi metteremo In atto Per promuovere Mi dia qualche numero Sarà Qui non c'eravamo Ancora proprio arrivate Sparalo Sarà una pubblicità Innanzitutto Che utilizzerà molto Gli strumenti del web Visto che è considerato Che parte Della giuria E delle valutazioni Saranno fatte Proprio attraverso i social Ah, chi sono Quelli che danno il giudizio? Le persone che daranno Il giudizio Saranno Alcune Persone Referenti Del territorio Nei vari settori Creativi Che noi stiamo individuando Alcuni dei quali Hanno già collaborato Con lei Quindi artisti Saranno degli artisti Dei videomaker Dei fotografi Che già hanno collaborato Con lei Per alcune campagne pubblicitarie Senta C'è pure qualche cosa Che a che vedere Con le stoffe I vestiti In tutti questi interventi Di melting pot Libero spazio Alla fantasia Dei creativi Per cui potrebbero Utilizzare Il caso di indirizzarla Questa fantasia Se è possibile Dovrebbe Un premio Diciamo che Si potrebbe ragionare Si potrebbe ragionare Su un premio Melting pot Si Parte diciamo Senza dubbio Fare qualche cosa Per i ragazzi Svantaggiati Una borsa di studio Questo si può vedere Certo Non so bene Con 5 mila euro Come possiate fare Tutto ciò Però vabbè Questo poi me lo spiegherete Saranno più La borsa di studio Ah ecco Che fa Mi dà la fregatura Alla fine Dottoressa Mi sta indorando La pillola Mi sta indorando La pillola Sarebbe il caso Eventualmente Di poter fare questo Anche con materiali Che sono più vicini Alla nostra immagine Comunque guardi L'idea Non mi dispiace Magari Le chiederei Se mi manda Un progetto scritto Anzi Adesso le dico A chi lo deve mandare Direttore marketing Poi dopo ci penso io E poi se mi manda Un piano di comunicazione Di tutto ciò Avete già fatto Precedenti edizioni Di questa cosa Sarebbe la prima edizione Speriamo Che prosegua Negli anni a venire Anzi Che cosa Vi rende sicuri Che la cosa Verrà bene Il fatto che Il mondo Della creatività Sia quello Maggioremente In espansione I sostenni Che anche Sì Anche i sostenni Che a livello Europeo Arriveranno da qui Sino al 2020 Per le imprese creative E quindi Sicuramente Mi metto a fare Un'impresa creativa Quindi Va bene Interessante Ok mi mandi Tutto questo materiale Che c'era di che C'era di che Oppure no Avanti Sincerità Forse non si capiva bene Non fate fede Come ho risposto io Perché io non conosco Melting Pot Cioè Appunto Io questo non lo so Sinceramente Certo stiamo parlando Di cifre abbastanza relative Non è che l'azienda Promozione Non lo fa Allora però Vediamo se ci sono Degli aspetti critici Perché lei Insomma Si è giocata bene La carta Quindi insomma Così a sentirla Così funziona Ma vediamo nella sostanza Io ho avuto Semplicemente Una difficoltà A capire L'importo di soldi In totale Quanto era E Tra borse di studio Contributo Io ho capito 5.000 più 2.000 Questo ho capito La borse di studio Di quanto? Di 2.000 Ah di 2.000 E E poi anche su Cioè Chi partecipavano Erano Chi erano I Cioè Soltanto Però questi giovani talenti Sono già Diplomati Sono all'Accademia Sono liceo Poi sono artisti Sono artisti Figurativi Diamo che trova risposta Prego Un dubbio? Un dubbio no Sul fatto di reperire La ragazza Dal punto di vista Di Melting Pot Dice Affari loro Cioè Voi mi dite Che lo portate Poi alla fine Se premio uno Che non è proprio disagiato Cioè Sono loro Che sono presi La responsabilità A me non interessa Ok Qui Anch'io me la faccio La domanda Infatti anche a me Mi è venuta spontanea Mertim Pot Non gliel'avrebbe fatto Mi è venuto spontaneo Chiedere Ma come fate Ad avere Sti ragazzi Svantaggiati? Prego Prego Mi dico sempre Parla più piano Secondo me Il fatto che Lei ha proposto Di fare qualcosa Artistica Ma che guardasse L'abbigliamento È la cosa che È il link Che lega Di più Con l'azienda Oltre Il fatto Della visibilità No loro hanno puntato Su una cosa Melting Pot Passa per Innovazione Ricerca Nei modelli Anche noi siamo Ricerche Questo è Non è fortissimo Ecco perché Ho cercato di Rafforzare Questo legame Qua prima cosa Mi è venuta in mente Insomma L'altra cosa È che L'azienda Vesta i giovani Questa è una cosa Che premia i giovani Quindi Sì esatto C'è l'unico Assolutamente Infatti per quello Mi è piaciuto Che lei mi ha risposto Attraverso le scuole Perché a me De stare nei musei Melting Pot Non me ne frega Proprio niente Però se tu mi porti Andando nelle scuole Dentro ai musei I giovani Allora mi va bene Assolutamente Perché se fosse stata Una cosa che si svolge Solo nei musei No a me di essere Con Melting Pot Marchio nei musei Non me ne frega di meno Insomma Ma è chiaro Va bene Il postare i creativi Gli artisti Cioè i target No i Melting Pot Che già non vanno Nei musei Esattamente C'era un'azione Che è una cosa Per Melting Pot Certo Con i vita maker Con i fotografi Certo Ma Melting Pot Diciamo Di cui non conosco assolutamente Il proprietario Eccetera È uno che ci tiene Ad avere buoni rapporti Nel Salento Oppure semplicemente C'ha la fabbrica E lui col Salento Non c'ha niente a che spartire Ci tiene Ha un'immagine internazionale No vabbè ok C'ha un'immagine internazionale A me mi interessa Se oltre a essere Immagine internazionale No per capire Se lui Per capire se lui Ha interesse In quanto imprenditore No No quello Perché a lui Di promuovere il territorio Non gliene frega niente No L'unica cosa È capire Se lui Eh che è qua Ma è l'anarchia Totale È una lezione Questa Non è un dibattito Allora Dico L'importante è capire Se lui In quanto imprenditore Non in quanto Melting Pot Marchio Ha interesse Comunque Al Salento Per ragioni relazionali Per ragioni di lavoro Per ragioni di passione sua Eccetera Perché è chiaro Che questa cosa È una cosa Che impatta Sul Salento Quindi se lui Vuole far vedere Al Salento Sapete Ce ne sono Di imprenditori Il genere Che vivono In tutto il mondo E mantengono Comunque un legame Che era quello Dei divani Natuzzi No Per dire Quindi ci sta Che Natuzzi Che ha interesse A stare sulle pagine Di grandi magazine Internazionali Per la vendita Poi dopo Stia attento Abbia una presenza Ma più come Natuzzi Imprenditore Che come divani No Ha Del territorio Nel quale ha fatto Le attività Nel quale c'ha Le attività Questo è normale Lo stesso De Benedetti No De Benedetti Lo stesso Merloni Lo stesso Coso Toz Toz Nel paese Dove c'ha L'industria Ha costruito La scuola comunale E ta Costruisco io Via qua Tra tra Prum Prum Papà Due milioni L'ha fatta lui No A casette Dete Non è che Facendo quell'operazione Parla al mondo Parla a casette Dete Però È l'imprenditore Che si interessa Se ce l'ha Sti interesse Lui ce l'ha Perché effettivamente Lo dice sempre Io sono frutto Di questa tradizione italiana Le marche Eccetera eccetera Ci conta Ci gioca pure E però poi deve pagare Per avere questo Altri invece Non ci contano Non gliene frega Un figo secco Insomma Va bene Quindi quello potrebbe essere Di rimente Magari l'interesse ce l'ha Perché Che ne so In camera Come si chiama In confindustria Ha una sua battaglia Oppure vuole avere un ruolo In confindustria A quel punto Nel Salento Deve stare attento Deve andare pure Alla riunione degli imprenditori Le fa vedere che uno No Dipende un po' Da queste cose qui Va bene Dulcis in fundo Il museo del gusto Va bene A quale azienda andate Va bene Quella proposta Di diventare socio A me va bene Pidiamone una Giusto per fare il gioco Ah Lavoriamo su quella cosa lì Mo dite voi Decidete Ah Andiamo bene No Non abbiamo fatto niente Va bene Allora basta Dai Non è che possiamo costringere A fare qualche cosa Va bene così Dai Non dobbiamo restituire Pedisseguamente tutto Anche perché abbiamo Un'oretta Facciamo semplicemente Voi avete un'idea Di poter fare una campagna Associativa Nei confronti di aziende Del territorio Associativa Quindi ancora prima Di sponsorizzazioni E' avere accanto a noi Una serie di aziende Che sono interessate Gli piace quello Che noi facciamo E quindi si associano Va bene Quindi una sorta Di piccolo azionariato Popolare Sostegno così Diffuso Dalle aziende Evidentemente Aziende che hanno A che fare O col territorio O col gusto O col cibo O quanto altro Andate da una Di queste aziende Per vedere se la proposta Funziona Che gli andate a dire No ma a parte La parte economica Che gli andate a dire Ti propongo Di diventare Socio Perché Noi gli andiamo Andiamo a proporre Ad un'azienda Una forma Di Di partenariato Bene Per cui L'azienda Con il suo Marchio Entra Fa parte Di Un pool Di aziende Di eccellenza Del territorio Che si qualificano Come sostenitrici Di un progetto Innovativo Che è il Museo del Gusto Perfetto Le aziende del gusto Detta proprio Brutalmente Orribilmente Entri in un circolo Che non è Aperto Urbi e torbi Solamente alle aziende Che hanno particolare Sensibilità Gusto Livello di qualità Ed è per questo Che sto da te E non sto andando Dal tabaccaio Non è una categoria Palatale Ma una categoria Estetica E uno stile Di vita Perfetto Palatale Lo hai fatto schiantare Per terra Io ci arrivo Ma non è detto Non è detto Che ci arrivi lui Io appena appena Ci arrivo Ok va bene Si è capito Quindi l'importante È il legame Che sia gusto Qualità Cura Tutto questo Noi lo facciamo Per una valorizzazione Del territorio Certo E ci fa piacere Che le aziende Si sentano partner Di questo progetto In quanto Il territorio È il nostro bene comune Molto bene La ringrazio Signora Ma io associandomi Che vantaggio trago? Come socio I vantaggi Guardi I vantaggi Sono in stretta relazione Con il contributo Con cui lei intenderà Sostenere Mi faccia capire Che tipo di vantaggi Poi parliamo dei soldi Come avida lei Possono essere molteplici Sì Possono andare Da vantaggio Se vogliamo Scontato Ma sempre Influente Significativo Di una visibilità Che noi Assicuriamo Sì all'interno Del museo Dove abbiamo Un pubblico Attualmente Abbiamo un pubblico Non molto esteso Ma molto qualificato Molto esteso Quanto signora? Diciamo che si qualifica Intorno ai 3.000 3.000 3.000 passaggi In un anno Che tipo di pubblico Abbiamo un piano Di sviluppo Che è strettamente Legato al programma Di attività Perfetto E quindi nel 2014 Arriverete a quanti visitatori? Nel 2014 Le nostre previsioni Sono di allargare Sia la qualità Di allargare La quantità Del pubblico E di differenziare Anche i target Mantenendone però Il livello di nicchia Nel senso di Come sarò presente io? Lei mi ha detto Una presenza Dentro al museo Oltre a una presenza Dentro al museo C'è Noi Abbiamo un'attività Di comunicazione A cui Presta Un pubblico Vasto Sul web Abbiamo Un livello No Lei mi ha detto La ospito Cioè lei è presente Dentro al museo Dentro al museo Come sarò presente Dentro al museo? Dentro al museo L'azienda può entrare Con i propri prodotti Sorbole Con i propri prodotti Che possono essere anche Parte del percorso museale Il nostro è un museo vivente del gusto E quindi il prodotto Può essere offerto in degustazione Che fate? Mi date una vedrina Una teca Dove metto i miei prodotti? Lo spazio va concordato Di volta in volta Sia lo spazio Sia le attività Che noi possiamo fare In relazione al prodotto Con il prodotto O anche con l'azienda Presente direttamente In alcune situazioni Nei nostri eventi Tutto questo fa parte Di un contratto Diciamo a parte Lei mi ha chiesto di diventare socio Il contratto non va bene Di un accordo Di un accordo Giusto Allora A questo punto Scende in campo Noi è chiaro Dobbiamo Abbiamo il piano di sviluppo Lei l'ha capito Stiamo cercando dei soci Che ci sostengono Nel nostro sviluppo Non abbiamo finalità di lucro Tanto più cresce il museo Tanto più cresce l'audience I frequentatori E via di seguito Il nostro tipo di pubblico È un pubblico Sia salentino Che frequenta Abitualmente I nostri eventi E che si va allargando Sempre più Sia un pubblico Di un turismo Alto Di quel nuovo turismo Che sta Abitando Popolando Diciamo il salento Con nuovi investimenti Un pubblico Quindi Anche Abbastanza Qualificato Economicamente Diciamo Un pubblico ricco Che ha un potenziale Allora Lei mi offre Uno spazio di visibilità E al limite Di vendita O almeno promozione Dei miei prodotti All'interno del suo museo Io non offro Una vendita diretta Perché il nostro obiettivo Non è commerciale Benissimo Allora solo di esposizione Di miei prodotti E di esposizione Di degustazione Poi posso Di esperenziale Posso studiandola con lei Avere che Far sì che i miei prodotti Le mie attività Abbiano a che fare Con le vostre attività Con le nostre attività Una piccola parte di vendita Ci può essere Ma ciò che a noi interessa È il rapporto di partnership Con l'azienda del territorio Che si contraddistingue Anche in questo Come museo del gusto Noi pensiamo Ad un museo del gusto Diffuso nelle sedi Delle aziende Per cui L'azienda diventa A sua volta Parte Sul territorio Una espansione Del museo E noi Organizziamo Delle visite Ottimo Meraviglioso Basta Accetto Cioè io posso mettere Essendo produttore di vino Nella mia cantina Lo stemma E mi faccia parlare Ho capito La foto Capito Mi ha fatto una proposta Che mi interessa Però Ok Da qui a fare il matrimonio Un attimino Allora Quindi io Nella cantina Dove spesso Dei visitatori E avrei piacere Che venissero da me Anche perché Dopo la visita in cantina Si comprano le bottiglie E fanno gli ordini Posso mettere una cosa Museo del gusto Tipo come se ci fosse Un itinerario Il museo del gusto È qua Ma è anche un itinerario È un museo Come si dice oggi Come dite voi Del mondo della cultura Sicuramente perché L'obiettivo di museo diffuso Fa parte Della nostra mission Molto bene Molto bene Quindi io posso essere Sede locale Del museo del gusto Può essere sede locale Del museo del gusto Bene Allora Quanto mi costa? Dipende da tutto Quello che lei desidera avere Voglio comprare Tutto il cucuzzaro Quanto mi costa? Diciamo che Io non ne so fare Ste cose Mille euro all'anno Mille euro all'anno Per favore Va bene Mi 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 Allora In questo caso Possiamo chiedere Diterci Guarda No Mi metterei I volontieri A tavolino Soprattutto A fare un'operazione Perché noi Il primo anno Dobbiamo far partire Sta cosa Poi se La cosa vale La facciamo cantare Quindi il primo ragionamento Che farei è questo Io devo fare Centomila euro Per far andare avanti Bene Sta baracca Incluso il fatto Devo fare molta comunicazione Devo fare un dépliant Qui devo mettere Una cartina Museo diffuso Del gusto Cantina Mi costa 120 mila Mi devo fare un calcolo Per far 120 mila Ne devo trovare 120 da milla È possibile? Non è possibile Ne devo trovare 20 da duemila E più di quelli Non metterò vetrine Anche perché Sennò questo qui diventa No? E questi saranno da duemila Cioè devo fare Questo tipo di ragionamento Che non è ancora Un ragionamento Di valore di mercato Perché probabilmente Lo Era legato al fatto Che tutti abbiamo Una percezione Che quello che gli stai offrendo Valeva di più Però tu lo devi far partire La cosa Non è che si può essere avidi subito Più si afferma il marchio Più si afferma l'iniziativa Più tu sali Giustamente Fino a arrivare Anche perché dovrai Continuare a investire Dovrai fare nuove iniziative E questo porterà Non un utile Una contentezza Dei tuoi partner E quindi va bene così Quindi se fosse così Diciamo che io potrei anche dire Siccome stiamo lanciando Questo programma Stiamo cercando Anche degli operatori Coraggiosi Perché Questa è una cosa Di evidente successo Però nessuno ha provato A farla in maniera così sistematica Allora noi Molto sinceramente Le dico Stiamo cercando Dei partner Che facciano un test Con noi E quindi le chiedo Mille euro Per un anno di prova Poi vediamo Non le posso assicurare Che questo possa essere Sempre mille euro Anche perché se la cosa funziona Dovremmo investirci di più E noi lo vogliamo fare con voi Anzi Le dico anche una cosa Che i soci Che saranno un numero limitato Perché noi siamo molto Cioè io sono da lei Dopo aver fatto il pelo E il contropelo a lei Perché io sono il museo del gusto Io non faccio cose con Barilla Non faccio cose neanche Con quell'altro disgraziato lì Che la mozzarella la fa Non con il latte vero Ma il latte di polvere Lei lo capisce Quindi è chiaro Che saremo un gruppo ristretto Le dico Il programma annuale Di questa attività Che chiamiamo associativa È un programma Che decidiamo insieme Ecco perché le propongono Non una sponsorizzazione Ma una partnership Perché per noi vuol dire Essere socio Lo decidiamo insieme Perché questo vuole diventare Anche un bene del territorio Senza dubbio Una mia invenzione Guai a chi me la tocca Ma è anche un bene del territorio Quindi io la voglio condividere con voi Quindi mille euro Lei ha il diritto Di collaborare con noi Diciamo Per quello che è il vostro punto di vista Nel mettere a punto Un programma annuale Le offro diverse opportunità Di comunicazione Sia in situ Sia attraverso Diciamo i nostri canali di comunicazione E saremo Sicuramente se lei è d'accordo Ci metteremo sul tavolo A capire Nell'ambito dei mille euro Che cosa si può fare realisticamente Tre Se vuole Nel tempo Possiamo Costruire Presso di lei Delle attività O comunque degli elementi identitari Che la legano All'itinerario Al museo Al progetto Museo del gusto 2.0 Che potrebbe diventare Anche una cosa sul web Fruibile negli Stati Uniti D'America Così se preparano subito A venire qua Il circuito del gusto del Salento Che è figata Ok E questo per il primo anno Poi se lei mi dice Mille euro non posso 500 euro E' chiaro che in questa fase Ho tutto l'interesse Ad averla con me Perché la voglio lanciare E cercheremo di vedere Che cosa si può fare Con i 500 euro Sicuramente Questi soci Anche su vostra proposta Potrebbero fare Delle iniziative pubbliche E' chiaro che se io faccio Un convegno Sul valore dell'ampascione E' evidente Che a questo convegno Voi siete invitati Potete invitare Chi vi pare E se voi siete Produttori di lampascione Parlerete Porterete i vostri prodotti Cioè noi vogliamo Creare un'accolita Di soggetti Di qualità Che promuovendo I loro prodotti Promuovano La cultura del gusto E la cultura del territorio Questo è tutto Che mi dice? Ok E' difiscalizzabile Sti mille euro? Che forma associativa? Potete pagare di più Sì? Ho capito Bene Bene Che forma? Siete un'associazione? Sì Siete una onlus? No No Siete un'associazione di che tipo? Normale? Una PS? Normale Normale Un'associazione semplice Ex articolo 49 della Costituzione Ma credo Che ne so Credo Ma non è possibile Cioè se lei mi chiede Che cosa sono Io le dico Sono una cooperativa Di produzione del vino Siamo un'associazione culturale Un'associazione culturale Non profit Certo Senza dubbio Un'associazione culturale Sì Va bene Ok Quindi posso pure defiscalizzare Sti mille euro Noi abbiamo Un marchio Associazione culturale Eno gastronomica Parco Salento Benissimo E la nostra attività E il museo del gusto No no Ho capito A me mi interessava Solo capire Se sti mille euro Li posso dare al commercialista E farmeli defiscalizzare Questo Ha capito signora Era andato molto terra terra Va bene Che ne dite di questa proposta Si può fare? Però signora Con questi mille euro La prego Fate mettere la cartellonistica Che non è possibile Che uno non arriva qua C'è qualcosa da pagare Perché il comune Non va a regala Pagliamo qualche cosa Ma io devo arrivare A Lecce E già so che c'è Il museo del gusto Quindi dovete spendere In pubblicità Nei posti giusti Non è che dovete fare Bim bum bam E appena si arriva Verso San Cesario Museo del gusto Museo del gusto Quelli marroni Quelli istituzionali Eh li faccia fare marroni Istituzionali Museo del gusto Cacchio Sono passato a San Cesario C'è il museo del gusto Mi fermo e lo vedo Se non lo vedo il cartello Io passo E vado a mare Vado a Gallipoli Vado a che ne so No? E lo dico proprio personalmente Perché io Ce l'ho passato in macchina Se vedevo il museo del gusto Magari non mi fermavo Ma dicevo Che c'è sta qua? Va bene Ottimo signori Ottimo Chiaramente farei un test Farei Procederei con un test Con quelli che sono Un pochino più amici C'è confidenza Anche diciamo Con questo schema retorico È una proposta Voglio sentire il tuo parere Perché prima di passare Su larga scala Voglio sentire il tuo parere Ma tu ci staresti Una cosa del genere Pro o contro All'imente Se è veramente un amico Gli chiederei Ma secondo te Mille È un prezzo giusto Lui potrebbe dire Vale di più Ma in questo momento Un'azienda vinicola Più di 800 Non te li può dare Adesso Se abbiamo degli amici Se no dobbiamo giocare subito Facciamo un test Vediamo che aria tira Se gli feedback sono positivi Partiamo su larga scala Se i feedback sono negativi Cerchiamo di aggiustare il tiro Oppure capiamo Che proprio la cosa non c'è E allora Eh? Prego Posso dire come la vedo io? Assolutamente sì Gli amici Io non gli do Con confidamento Prima perché c'è troppa confidenza Poi si vogliono proteggere Per rimanere solo loro amici Normalmente Invece è molto più stimolante E fai pure meno brutta figura Io se ti dici ad un amico No per carità Ma che E la partiglia mi smonta Io invece voglio andare carica Come la calcata delle valchirie No? Arrivila dal primo che ti capita O dentro o fuori O spazio o muori Però capisci Vabbè è un'altra strategia È un'altra strategia No io non la escludo assolutamente È chiaro che quando parlavo di amico Parlavo di un amico imprenditore Che deve fare affari Cioè uno che abbia comunque Un punto di vista qualificato Non è che vado da un amico Sono amici che già hanno raccordi Al faccio l'hanno fatto Nel loro e nel lei Allora è meglio andare Decidete Passi comunque Si può prendere in considerazione Anche la famosa strategia Cavalcata delle valchirie Guardate se non c'è un muro Perché la cavalcata delle valchirie È una potenza mondiale Ma se c'è un muro davanti Pia certe trambate E ho tamponato quattro macchine E ho avuto Allora ok Vacci con la tua automobile fallica A fare questi incontri Che l'ho vista fuori Vai lì Arrivi Diventi socio Il desiderio più grande Era due anni Ecco Fantastico Ok Questa è una nuova forma di fundraising Quando il gioco si fa duro I duri cominciano a giocare Ottimo 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 Bene signori Complimenti Complimenti Poi guardate Finché uno non ci prova Quello che io posso dire qua I consigli valgono quello che valgono Lo dico subito Noi procediamo con un unico metro Per prove ed errori Non esiste altro metodo Non esiste scienza esatta In questa materia Esiste buonsenso Conoscenza Pratica E dopo di che bisogna provarci Proprio con lo scopo di capire Con uno scopo di ricerca Provarci per portare a casa i soldi Perché il gioco deve essere vero Ma anche per portare a casa informazioni Condizioni All'i quali io posso fare bene questo Quindi il tiro sia giusto a strada facendo L'ottimo non si può avere subito Allora signori cari Alcune cose essenziali Che esulano Diciamo la stretta materia delle aziende Abbiamo detto Qualche cosa al volo sulle fondazioni Giusto per farvi percepire questo mercato L'avevo promesso ieri Infatti me le sono messe qua Allora noi abbiamo le fondazioni Le fondazioni sono un soggetto Non privato Non profit Come noi Ok? Si dividono in tre grandi Categoria Innanzitutto la fondazione A differenza delle nostre cose Che sono associazioni cooperative Eccetera Da un punto di vista giuridico Ma anche sostanziale Esistono perché esiste un fondo Mentre invece noi esistiamo Perché esistono delle persone Quindi per fare un'associazione Ci vogliono persone Che vanno da un notaio E dicono Si la voglio fare Per fare una fondazione Ci vogliono delle persone Che dicono C'è un fondo Questo fondo viene valutato Riconosciuto E attorno al fondo Nasce la fondazione Infatti si dice Che la fondazione È un patrimonio Per uno scopo Voi invece siete persone Per uno scopo Ok? Non bisogna però confondere Il patrimonio Con l'economia E la finanza Di una fondazione Una fondazione Potrebbe avere un enorme patrimonio Valido Cioè un palazzo Splendido Storico E non avere cassa Perché la sua attività economica Non può riguardare L'uso del patrimonio Tu cur Perché se io uso Per la mia attività economica Il patrimonio Erodo 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 E manca Viene meno la ragione Per cui sono una fondazione Cioè il fondo non c'è più Quindi io uso Un'altra economia Per le mie attività Questa economia Mi viene da due parti A Quello che il patrimonio Mi produce Perché è un fondo Il palazzo Non lo posso toccare Ma lo posso affittare E gli affitti Vanno in cassa Il patrimonio Non viene toccato Ma all'uso Che ne faccio Del patrimonio Come patrimonio Potrei avere delle azioni Le azioni Non le posso toccare Perché se no Devo chiudere la fondazione Ma il proventi Delle azioni Sì L'utile Il profitto delle azioni Sì Capito? Basta Per dire che cosa è una fondazione Basta e avanza L'altro modo Per le fondazioni Per avere soldi È raccoglierli In tal caso Voglio dire Da questo punto di vista Ci aiuta a capire La tipologia di fondazioni Noi abbiamo fondazioni Che nascono Con lo scopo Di raccogliere soldi Sono fondazioni Che operano AIRC Associazione Italiana Ricerca sul Cancro Oggi è FIRC Fondazione Italiana Ricerca sul Cancro Per tutta una serie Di ragioni giuridiche Legali Perché gli hanno donato Palazzi Per cui conviene Fare una fondazione Quella è una fondazione Che non dà soldi Li prende Fa le campagne Di raccolta e fondi Voi non chiedete soldi a FIRC Almeno che non siete Un ricercatore scientifico E FIRC La sua operatività È fare ricerca scientifica Ok Poi avete le fondazioni Che nascono Con lo scopo Di erogare Cosiddette Filantropiche Io nasco Con lo scopo Di dare soldi Per qualcosa Di utile Siccome sono privato Che cosa è utile Lo decido io Poi abbiamo Le fondazioni miste Un po' Operano Un po' Erogano Tendenzialmente La fondazione mista Più opera E meno eroga In genere Una fondazione Che magari Gestisce un fondo Che fa attività Per l'educazione Dei ragazzi E per una piccola percentuale Istituisce una borsa Di studio Ecco in genere Questa è l'attività Erogativa Di una fondazione mista Quindi è abbastanza Minimale Quindi il nostro Vero target Sono le fondazioni Filantropiche Erogative Che in Italia Sono di tre tipi Le fondazioni Di origine bancaria Prego Non lo so Lo devi chiedere A un giurista A un commercialista Non mi sento Di rispondere No No Le fondazioni Se hanno bisogno Di fondi Li prendono Gli sgravi Sono quelli Che ha il non profit Sicuramente Da un punto di vista Gestionale Per esempio La fondazione Può gestire Molto più semplicemente Attività economiche Perché? Perché ha una forma Aziendalistica Più spinta Qui ti rispondo Come cittadino Informato però Veramente Quando si entra Dentro a sta materia Per la quale Tu mi fai la domanda Ci vogliono Giuristi Commercialisti Fiscalisti Perché è una materia Abbastanza intricata Sono molti soggetti Che hanno sentito L'aria che conviene Fare una fondazione L'hanno fatta E se sono data A zappa sui piedi Eh? Quindi A noi poi Di fatto A stanza del Fandrisi Ci interessa La fondazione Che nasce proprio Con l'idea Che vuole dare i soldi Quindi per carità Gli servirà pure la fondazione Per gestire meglio Il patrimonio Pim pum pam Ma a noi ci interessa Che quel soggetto lì Senza toccare il patrimonio Dà dei soldi E abbiamo tre tipi di fondazioni La fondazione di origine bancaria Creata per legge L'ho accennato ieri È lo spin off La conseguenza Di un'evoluzione Delle casse di risparmio La cassa di risparmio In quanto banca È andata a fare la banca La parte sociale Cioè Quell'investimento Che la comunità Ha fatto su se stessa E che ha creato Il patrimonio Della banca È diventato patrimonio Di una fondazione Il cui utile Deve essere restituito Alla comunità Caso tipico È Cariplo Cariplo Era una banca Cassa di risparmio A un certo punto Ciampi E Amato Hanno detto No Scorporiamo La parte banca È diventata Banca intesa Che adesso È intesa San Paolo Perché si è fusa Con Banco San Paolo Va bene Ed è banca A tutti gli effetti La parte fondazione È diventata Fondazione Cariplo Fondazione Cariplo Ha come scopo Quello di sostenere Progetti di sviluppo sociale Beneficenza E quant'altro Nelle province Lombarde Quindi le fondazioni Origine bancaria Che hanno un bel patrimonio E una bella capacità Di erogazione Complessivamente Nonostante hanno una crisi economica Perché loro sono azionisti Delle banche Che stanno in crisi Quindi L'utile Delle azioni È diminuito Va bene Però erogano E come Hanno un forte limite Che è quello territoriale Cariplo Può erogare soldi Solamente a cose fatte In Lombardia Con una deroga A Novara Compagnia di San Paolo Solo A Torino Un pezzo D'Alessandria E un pezzo De Savona La fondazione Roma Solo nel Lazio La fondazione Cassa di risparmio Di Piacenza A Piacenza Monte Paschi Siena Non può fare niente A Firenze Se no gli esegano le mani Così come Cassa di risparmio Di Firenze Non può fare niente A Siena L'unica deroga È che se io ho la mostra Di un grande pittore senese A Roma Beh Monte Paschi Siena La può finanziare Ma questa è proprio la deroga Non è una regola Proprio per legge Ma è una regola interna Al sistema La fregatura È che il Sud Non ce l'ha Ecco che nasce La fondazione Con il Sud Quota parte Di tutte le fondazioni Origine bancaria Per mantenere Il principio di equità Mette dei soldi A patrimonio E l'ha costituita La fondazione Con il Sud E poi dei soldi Per le attività Di questa fondazione Che quindi si rivolge Alle organizzazioni del Sud Il presidente Della fondazione Con il Sud È Carlo Borgomeo È un uomo Molto esperto D'impresa Molto moderno È stato Quello che ha guidato L'Italia In uno dei programmi Più interessanti Che è L'imprenditoria giovanile Parliamo degli anni Ottanta Ottanta Novanta E quindi Devo dire che è un interlocutore Molto molto serio È molto posizionata Questo è meglio Che lo diciamo Sul sociale Anche data L'acutezza Dei problemi sociali Del mezzogiorno È un po' meno Sulla cultura Però ha fatto anche Delle cose in cultura Peraltro Cose tipo questa Formazione di manager Della cultura Nell'ambito Diciamo Sono le fondazioni di origine Di origine bancaria Annessi e connessi Poi abbiamo le fondazioni D'azienda Fondazione Vodafone Vodafone Con una parte Del suo profitto E parte Del suo patrimonio Lo Ci costruisce Una fondazione Questa fondazione Il patrimonio Dato alla fondazione Produce qualche cosa Oppure Vodafone Azienda Foraggia La fondazione Che a questo punto Fa un'attività Filantropica Non come azienda E questo sicuramente Gli produce Dei vantaggi Di carattere fiscale E soprattutto Di immagine Perché la parte sociale La gestisce Non con la parte Dell'azienda Quindi libera La parte sociale Da quel peso Del commercio Della finalità Di lucro La fondazione In genere Ha organi Per quanto controllata Dall'azienda Ha degli organi Con una certa autonomia Usufruisce Di competenze esterne In genere Ha quasi sempre Un comitato scientifico Un comitato etico Che è fatto Di soggetti esterni Perché se la fondazione Fosse interamente controllata Nei temi Nelle modalità Dell'azienda Sarebbe una buffonata Poi è chiaro Che dentro la fondazione Vodafone Ci sta una persona Di Vodafone Che verifica E garantisce Che quello che fa La fondazione Sia comunque funzionale A quella che è La mission generale Di Vodafone Diventare ricchi Con la telefonia Ok? Però diciamo Che è sicuramente Un passo in avanti E poi abbiamo Le antiche fondazioni Di famiglia Che nascono Su patrimoni familiari Oppure ex imprenditori Che se ne vanno in pensione Hanno venduto La loro azienda E fanno una fondazione Ok? Queste sono più o meno Le tre fondazioni Che noi abbiamo Di quelle che erogano Le fondazioni Stanno crescendo In numero Sono molte di più Le aziende Che negli ultimi cinque anni Si dotano Di una fondazione Probabilmente Forse anche Per ragioni fiscali Però di fatto Noi abbiamo più soggetti Che erogano soldi Questo è quello Che a noi ci interessa Va bene? Vediamo di essenziale Ho detto Operano Se vogliamo fare Una certa quantità Di soldi Con le fondazioni Dobbiamo puntare Sulle fondazioni Tendenzialmente strutturate Che vanno a bando Cioè che hanno interesse A prendere progetti Analizzarli Valutarli E dargli una certa quantità Di soldi A volte anche Essendo l'unico partner I bandi possono essere Di due tipi Queste cose ci stanno Nelle slide Ve le sto dicendo così Più rapidamente Tanto il discorso È molto semplice Concettualmente Non è che serva I bandi sono di due tipi Diciamo Il bando libero Aperto sempre Un caso di questi È la fondazione Roma Che ha un bando Sempre aperto Cioè tu mandi Delle proposte C'è un modulo E loro Tutte le volte Che si riunisce Un comitato D'amministrazione Eccetera C'è qualcuno Che fa un'istruttoria E porta Una serie di proposte Che vengono finanziate Entro un tetto Dei soldi Che è a disposizione Poi ci sono invece Dei bandi A tempo Vodafone adesso Non lo fa più così Ma prima era così Si apre il primo De febbraio Se chiude il 20 De marzo In quello spazio Devi presentare Dei progetti In genere I bandi Sia del primo tipo Del secondo tipo Hanno un documento Di riferimento Cioè la fondazione Ti dice Io cerco progetti Di aiuto allo sviluppo Io cerco progetti Di educazione Io cerco progetti Di social housing E quindi Diciamo che Loro a priori Ti dicono Qual è la missione Che si vuole raggiungere Libero io Di inventarmi Qualche cosa ad hoc Però è evidente Che io devo andare a vedere Se quello non propone Bandi per la cultura È inutile Che io ci vada A partecipare Mi conviene concentrarmi Su altre fondazioni Il top Dei top Delle fondazioni È Cariplo Cariplo Non è l'unico Però chi è che lo fa Veramente in maniera strutturata Cariplo Sembra quasi L'Unione Europea Ha innanzitutto Un documento O triennale O quinquennale Di politica Della fondazione Grandi temi Su che cosa vogliamo investire Ma è quasi Un documento politico Dal quale poi deriva Il bando annuale Che in genere È diviso Per 3-4 Grandi categorie Disagio sociale Cultura E all'interno Di ogni bando Ci sono i sottoassi Sembra proprio Vedere i progetti europei Bando 1 Asse 1.1 Biblioteche 1.2 Valorizzare il teatro 1.3 Un documento Fatto bene Studiato molto bene Che si scarica da internet In genere Lo presentano anche pubblicamente Quando è pronto Una pacchia A lavorare con Cariplo Da questo punto di vista Non è facile Prendere i soldi Da Cariplo Perché molte proposte Molte richieste Poi vabbè A voi non interessa Perché è Puglia Ok E quindi Se fossero solo Le fondazioni bancarie Comunque sarebbe Una mezza fregatura Perché insomma Comunque la fondazione Per il sud So 5-6 regioni Non è uno scherzo Di cui la Puglia Peraltro è comunque Molto importante Quindi guardatela con attenzione Le altre fondazioni Possono avere un vincolo territoriale Ma anche no La fondazione Vodafone Non ce l'ha Ha sede a Roma Ma non ce l'ha Sì c'ha una certa attenzione A Roma Perché la sede centrale Vodafone è Roma Ma Non so La fondazione Nando Peretti Che era l'antico Vecchio proprietario Di Api Petroli C'ha addirittura Una vocazione internazionale E ti chiede infatti Di mandare un progetto In lingua inglese Così evita Tutti quelli che non conoscono L'inglese Dice Premesso sotto il livello De soglia Così evito Di prendere bufale Ma anche perché guarda molto A un livello internazionale La fondazione Marcegaglia Sta a Mantova Ma finanzia qualunque cosa in Italia Quindi c'è Molta libertà Va bene? Quindi guardate con molta attenzione Le fondazioni Perché? Perché la fondazione È quella proprio vocata A dare soldi Senza avere nulla in cambio Se non una buona realizzazione Del progetto La rogna che te valuta E il vantaggio È che sono soldi puliti Per quel progetto Non ti devi inventare Pubblicità Cose eccetera Prego Voglio una fondazione Ah vuoi una fondazione Ho capito E cercatela Io non è che te la posso Dà così Fondazione del Sud È molto molto legata Ve l'ho detto A quelli che sono Le problematiche sociali principali Però Questo non vuol dire Il nostro sforzo Potrebbe essere Visto che qui stiamo A casa della cultura Il nostro sforzo Potrebbe essere Quello di dire Cerchiamo di trovare Dei link intelligenti Tra le nostre attività E degli obiettivi sociali Sui quali noi possiamo Essere funzionali Questo deve essere Diciamo Il gioco intellettuale Che noi dobbiamo fare Se si riesce a trovare Un buon legame Valido Che non sia appiccicaticcio Solo per avere La condizione Di chiedere soldi Alla fondazione Beh Insomma La cosa Si può fare Va bene? Ecco qua Per seguire le fondazioni Trovate qua Allora Ci abbiamo Perché non c'è qua Adesso la correggo Perché io poi dopo Vi mando Vi mando le slide Allora Ma c'è da qualche parte Me la devo essere persa Montandola ieri sera Allora Voi avete Tre punti di riferimento Importanti Sulle fondazioni Uno Segnatevelo Però lo trovate Nelle slide Acri.it Questa è l'associazione Delle casse di risparmio Che oggi è l'associazione Delle fondazioni bancarie Acri Acri Ogni anno Ogni anno Pubblica un rapporto Sull'attività Delle fondazioni bancarie Che è molto utile Perché ti dice Numeri Tendenze Che cosa hanno finanziato Un ottimo strumento Per capire il mondo Delle fondazioni bancarie Come si muove Dentro al sito dell'Acri Trovate anche l'elenco Di tutte le fondazioni bancarie Voi ce n'avete un paio In Puglia Sono un po' sgarupate Ma ce l'avete Ce l'avete La cassa di risparmio Di Puglia Ce l'avete Una piccola piccola Foggia Che non mi ricordo Come si chiama Ma piccola No Non è una fondazione bancaria Ho capito Non è una fondazione bancaria È una fondazione d'azienda Ok Ok Poi Per quanto riguarda Le fondazioni Erogative Non bancarie Quindi tutte le altre Ma che erogano Avete come punto di riferimento Assifero.org Associazione delle fondazioni Di erogazione Nata non più di tre anni fa Che ha avuto Un'enorme adesione E che raccoglie Tutte le fondazioni Tutte Gran parte ormai Delle fondazioni Che erogano È un'ottima newsletter Se uno vuole sapere Che fanno le fondazioni Che succede Ha un ottimo direttore Che si chiama Bernardino Casadei Che è uomo di cultura internazionale E quindi conosce molto Il fenomeno della filantropia internazionale Anzi devo dire È molto impegnato Nel rinnovare La cultura filantropica italiana Quindi c'è un'associazione Che tende Oltre a raccogliere E a rappresentare Queste fondazioni Anche a aiutarle A decollare Verso una cultura Più moderna Più innovativa Dell'erogare Molto buona Per quanto riguarda La cultura Nell'ambito Del giornale dell'arte Avete il giornale Delle fondazioni Che è un supplemento Periodico Al giornale dell'arte Direttrice Catterina Seia Che è stata a Lecce Durante Artlab Che è una persona molto nota Di una grande passione Per la cultura Una grande dedizione Per la cultura Persona splendida E quello indubbiamente Pur non essendo Diciamo Un giornale Che fa una ricerca scientifica Sulle fondazioni Perché questo Sarebbe anche Magari O potesse fare Però effettivamente Ci aggiorna Seppure periodicamente Su cosa bolla in pendola Nelle fondazioni Con l'ottica Di chi Evidentemente È del mondo della cultura Quindi per voi È particolarmente utile Questo è il discorso Diciamo Delle fondazioni È chiaro La fondazione È un lavoro Di fundraising Molto diverso Cioè Meno creatività Devi avere Molta più capacità Progettuale Perché vince Una buona idea Ma è un progetto Fatto bene Strutturato bene Scritto bene E quindi È un lavoro Molto desk Cioè Devo andarmi a vedere Tutte le fondazioni Studiarmele È un lavoro Da topo Da biblioteca Parliamoci chiaramente Non c'è attività Di PR Non bisogna fare Trattativa Più di tanto Ok Dire che la relazione Non conta È una bucia Perché se io sono conosciuto Dalla fondazione Mi conoscono Abbiamo partecipato A un convegno Ne abbiamo parlato Eccetera A voglia se conta Perché io poi Se sono fondazione Valuto anche col metro Della fiducia L'ho conosciuto Sono in gamba Però La valutazione È la più razionale Di tutti Rispetto agli individui E le aziende È la più razionale Di tutti Perché ha degli apriori Loro stabiliscono Degli indicatori Di valutazione Cari Però addirittura Te li dice 20 punti Per l'innovazione 10 punti Per la qualità formale Quindi voglio dire È tutto molto Più controllato Va bene Quindi è un lavoro Molto desk Ultima notazione L'ho detta Il primo giorno La ripeto Cioè ieri Sembra passata una vita E attenzione Il mondo è pieno Di fondazioni Che non è assolutamente Detto che non siano Interessati a quello Che fate voi Vi ho già fatto Gli esempi Fondazione Levis E attività sportiva Genova Faccio due esempi Al volo Una volta Dunque a Padua Una ricercatrice Che lavorava nel campo Del biomedicale Qualcosa del genere Insomma non riuscì A finanziare il progetto Che stava seguendo Se rotta le scatole Ha preso carta e penna Ha scritto A Bill e Melinda Kate Cari Bill e Melinda Kate Io ho sto progetto Con 70.000 euro Lo posso portare a termine E scopriremo Se il gene A Piuttosto che il gene B Che ne so Risposta di Bill e Melinda Kate Sicata Tieni 70.000 dollari Una cooperativa Di Genova Sociale Che si occupava Di inserimento sociale Di persone disabili Organizza a Genova Un evento Che è lo sport Per tutti Quindi in piazza In luoghi pubblici Si fa sport In cui però disabili E persone normodotate Giocano insieme Siccome in un progetto europeo Ha avuto un partenariato Con l'Inghilterra Andato a una riunione Di partenariato In Inghilterra E al tavolo c'era uno Della fondazione Levis Quella dei Blue Jeans Ok Pia carte e pena In un inglese stentato Dice Noi facciamo sta cosa A Genova Se ci potete dare una mano Risposta Bella iniziativa 5.000 sterline Dranghete Allora Se non altro Abbiamo la prova Che la cosa è possibile Tenete conto Che l'Italia È la culla Della civiltà Cultura Cultura Devi passare in Italia L'80% È il patrimonio Culturale del mondo Cioè voglio dire Se io voglio essere mondo In Italia Non è che proprio Non posso passarci Rockefeller ha due sedi In Italia Come fondazione Ci sarà un motivo Perché è venuto qua Perché se sta bene Perché siamo il centro del mondo Perché se tu vuoi essere cultura E vuoi essere mondo A Roma ci devi stare C'è il Papa No? C'è il Colosseo C'è la fondazione Rockefeller È evidente Devi stare là C'è poco da fare Adesso queste sono le cose apicali Però alcune cose si fanno In Italia Aggiungo un sottosettore Fondazioni statunitensi Americane Alcune di queste Hanno una forte impronta Italo-americana Dobbiamo presupporre Che abbiano perso Qualunque legame Passioncella Per il nostro paese Io sospetto Che non gli richiediamo Questi fanno Degli scatafasci di cose Negli Stati Uniti d'America C'è la fondazione Italo-americana Di cui non mi ricordo La sigla Che è una delle fondazioni Più potenti americane Come capacità di soldi Eh? What's American boy Broccoli No Eh? Australia L'Argentina E Brasile Non ha Grande fondazione Perché è un'altra cosa Australia Canada Stati Uniti d'America Inghilterra Germania Francia La Francia Diano soldi a noi Non ci credo Non ci credo manco Se lo vedo Però Giappone Giappone Fra poco sicuramente Qualcosa di matrice cinese Che farà fondazioni Eh? Ecco Sono molto molto orientati A finanziare A finanziare Progetti Questo vale proprio per l'India Grandi ricchi indiani Finanziano progetti Ma con una logica Proprio di dire Prendo io il potere Su quella cosa Eh? Cioè Amministrazioni Cose eccetera Ok Cioè la fame Mi occupo del programma La fame Lo faccio io Non mi rompete le scato Anche se siamo a livelli Di ricchezza Incommensurabile Rispetto alla ricchezza Media del paese Non rispetto a Bill Gates Cioè avranno ricchezza analoge Ma è incommensurabile Il loro potere Di spostare le cose Quindi le fondazioni Prima le fate E meglio è Perché poi è un motore Che per metterlo in modo Un po' di tempo Ci vuole Conoscenza delle fondazioni Vedere Poi serve tempo Elaborare i progetti Servono capacità Se uno non è capace A scrivere i progetti Non è cattivo Servono determinate Professionalità Insomma Uno che ha una lunga pratica Di scrivere progetti Per l'Unione Europea O anche per bandi pubblici Ebbè quello ti serve In un ufficio fondazioni Magari non ne sa niente Del tuo contenuto Ma se tu gli dai Il progetto Che hai fatto socialmente Lui è in grado Di trasdurlo Dentro Al linguaggio Alla logica Alla retorica Dei progetti Da fondazioni Perché è molto simile A quello Della pubblica amministrazione Poi qualcuni Hanno dei format Molto semplici Altri ce l'hanno complicati Fondazione Roma Ha un format Molto semplice Cariplo in genere Ha per alcuni bandi Format Formulari Abbastanza complessi Proprio da un punto di vista logico Che guardate Perseguono la logica Della mission E ti chiedono Come prima cosa Chi sei Qual è la tua finalità Come intendi raggiungerla E quindi che fai Contesto di riferimento Cioè proprio Hanno una logica Progettuale In senso stretto Ok E vada per le fondazioni Abbiamo detto Di dire altre due cose La prima è Va bene Noi ci mettiamo A raccogliere soldi Tutto quanto Dove sta? Questo no Dov'è la pianificazione? Ma che cosa ho aperto io? Questi sono i saluti Scusate un secondo solo Perdonatemi Ho fatto confusione Tra due Dov'è la fidelizzazione? C'era Giuro Eccola No la pianificazione Pianificazione Qua Allora Ah questo vi volevo fare No Non c'è tempo Allora Apri recente Donazioni Anicoltura Eccolo qui Dimmi che vero Come fa a far figuracce? Un bici Parapapa 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 ecco a posto allora come pianificare il fundraising staremo al punto 4 del ciclo quello che abbiamo visto ieri allora diciamo che noi abbiamo fatto l'analisi tutto quanto eccetera eccetera dobbiamo impiantare il lavoro operativo del nostro ufficio di fundraising dobbiamo fare il mitico piano di fundraising che evidentemente riguarderà diverse fonti di finanziamento adesso siamo concentrati sulle aziende ma contemporaneamente avremo gli individui le fondazioni oppure addirittura individui avremo la campagna soci la raccolta fondi per l'evento l'evento invece di raccolta fondi diciamo che quindi noi abbiamo individuato le azioni che noi facciamo per ciascun mercato per pianificare operativamente il nostro fundraising io vi propongo di usare questo schema molto semplice ma molto efficace allora innanzitutto il punto di partenza io devo fare un piano che risponda a un fabbisogno economico quindi io devo avere chiaro nell'ottica di un anno oppure se sto parlando di una campagna nell'ottica di una campagna qual è il mio fabbisogno economico che posso trattare con alcuni criteri che mi possono aiutare questo che impropriamente chiamo costi fissi e costi variabili che voglio dire c'è una parte di costi fissi che io devo sostenere comunque e c'è una parte di costi variabili facciamo il caso io potrei avere 5.000 di costi fissi perché sotto i 5.000 quel festival quella iniziativa scusami il contest non lo faccio poi se ci metto il recupero dei disagiati eccetera eccetera con le borse di studio più 2.000 potrei anche dire che quei 2.000 sono un costo variabile se non c'è non è che mando a carte 48 tutto eh in una logica di organizzazione potrei dire attenzione attenzione o pago la bolletta o pago il minimo del personale o se no chiudo sotto quella cifra è allarme rosso sicuramente tra questo ci metto anche quell'iniziativa che ogni anno devo fare perché se no non è che posso solo tenere aperta la sede devo esistere però magari c'è un progetto di sviluppo se non riesco a farlo finanzieramente quest'anno lo posso fare il prossimo anno costo variabile ok questo mi produce gli obiettivi finanziari che io tendo a fare al netto dei fondi pubblici perché ancora qualche fondo pubblico ce l'abbiamo eccetera quindi faccio un piano di fundraising che è avulso dai fondi pubblici quindi ricavo il fabbisogno che è relativo ai mercati privati sul quale io non escludo che noi ci poniamo anche un obiettivo di margine operativo è chiaro che noi non abbiamo finalità di lucro ma ripeto finalità di lucro non vuol dire che è vietato avere utile anzi noi dobbiamo fare di tutto per avere utile da reinvestire nella nostra mission se no non cresciamo mai l'azienda ha bisogno di fare utile perché se no produce profitto per i suoi soci e non li remunera noi non abbiamo questo problema dobbiamo pagare le persone che è un costo non è il profitto è un costo pagare le persone se riusciamo a fare margine operativo noi abbiamo un margine per crescere e un margine in una logica di start up di fundraising da reinvestire per la crescita del fundraising perché se no stiamo sempre a fare il fundraising dei poveretti poi è chiaro che se non raggiungo il margine operativo è una tragedia fino a un certo punto se non raggiungo i costi variabili è una tragedina se non raggiungo i costi fissi all'arme rosso ok quindi il piano alla fine da un punto di vista economico mi deve dire in prima istanza sì possiamo raggiungere questo obiettivo attenzione può anche dirmi il lavoro di pianificazione no non si può raggiungere ed è meglio saperlo prima questa è una cosa molto importante spesso l'organizzazione dice facciamo il piano di fundraising quanto dobbiamo trovare 100 sarà un piano da 100 è troppo semplice quanto dobbiamo trovare 100 analisi forze e debolezze vediamo i mercati pianifico e ti dico se il mio piano può essere da 100 oppure da 80 o a volte mi può capitare scoprire che il mio piano se fatto bene è da 150 perché noi non è che spariamo le cifre così e se io scopro che il mio piano più di 80 non può fare nonostante le previsioni più ottimistiche che io escludo a priori io sono ottimista nella vita quando faccio il piano sono proprio a legge di Murphy se una cosa può andare male lo farà ok e allora è meglio dirlo al consiglio di amministrazione subito ehi guardate quest'anno con 100 non lo facciamo quindi o mandi a casa le persone o tagli delle spese è inutile che poi alla fine dell'anno ci stiamo a leccare le ferite a dire questa è programmazione finanziaria bisogna saperlo prima di ogni azione che cosa devo pianificare io devo pianificare tutto ciò che risponde operativamente a queste 5 domande mitiche conosciute 5 domande chi cosa come quando quanto il chi è tutto ciò che attiene i target ai quali mi rivolgo facciamo campagna associativa alle aziende artigiane locali allora operatività 1 tirare giù l'elenco di tutte quante le aziende operazione 2 mettersi con tutti quelli del consiglio di amministrazione e di dire questo lo conosco questo non lo conosco questo lo conosco questo non lo conosco 3 fare il piano operativo le 5 aziende dalle quali andare richiesta di incontro programma 4 5 svolgimento dell'incontro 6 ha capito la logica cioè qui bisogna produrre azioni operazioni tutto ciò che è filosofia vuol dire che ancora ci devo ragionare qui ci deve essere il condensato di tutto il ragionamento le scelte operative il cosa è tutto ciò quello che attiene che cosa gli vado a proporre che cosa scambio tu gli hai detto gli do un premio eccetera il premio melting pot e qui ci deve essere l'operativizzazione del premio melting pot tu hai detto che gli dai no che cosa gli dai gli dai qui ci metti scusate starnuto che qui ci metti un cartello con tutti quanti i soci è l'operativizzazione di quello e che cosa gli vado a proporre no come come la scelta del mezzo come lo faccio incontro lettera allora scrittura della lettera programma 1 chiama il copywriter 2 fagli il brief 3 fatti mandare la prima bozza 4 correggila 5 quando che è la funzione di pianificazione cioè nel tempo quando devo fare queste cose questo produce scadenze io qui vi consiglio di usare molto il metodo cosiddetto GANT 2T alla fine per cui dice io ho la campagna natale l'ora X è natale se devo mandare una lettera quanto tempo prima la devo spedire e se la devo spedire il 20 quanto tempo prima la devo avere stampata e se la devo fare quanto tempo prima mi deve arrivare il definitivo e quanto tempo prima capito? questo metodo ti fa capire a volte che tu hai detto a Natale facciamo la campagna ma non è possibile non c'è tempo e soprattutto ti permette di fare il monitoraggio perché il monitoraggio in prima istanza di cui ieri abbiamo parlato è all'8 dicembre Massimo doveva produrre la lettera Massimo l'hai prodotta la lettera? no perché? e c'avevo molto da fare e perché non me l'hai detto prima che c'avevo molto da fare? perché adesso va a carte 48 la campagna di Natale allora nel monitoraggio si dice Massimo hai problemi a scrivere ho problemi a scrivere la lettera ho troppo da fare mi serve una mano Giovanni che stai facendo? nulla dai una mano a Massimo a fare la lettera ecco perché è importante questa cosa qui poi io alla fine devo monitorare che le cose avvengano perché se non avvengono da sole come spesso speriamo noi che crediamo ancora nella provvidenza che è una cosa molto interessante ma purtroppo sul fundraising non va bene perché non la posso controllare la provvidenza io ci credo che c'è la provvidenza secondo me ha anche un suo valore sociale non è solo religioso aiutati che Dio ti aiuta è più che un detto vuol dire che se tu vai avanti con la tua missione il mondo a un certo punto ti viene appresso il vero problema è che non lo posso controllare questo meccanismo e quindi è rischioso grandi preti sacerdoti che hanno fatto delle opere straordinarie i salesiani per dire l'hanno fatte sull'onda della provvidenza non è che c'era un piano dei fundraising il problema è che cioè come faccio a controllarlo? posso dire che il mio punto di forza è la provvidenza? no anche perché non dipende da me quanto la parte economica quanto mi entrerà da questa azione? e qui devo vedere contatto 100 aziende ipotesi A 10% mi risponde alla quota 2.000 20.000 euro il 20% mi risponde alla quota 1.000 euro 20.000 totale 40.000 ma se mi rispondesse il 5% allora non è 40.000 ma è 20.000 cioè dobbiamo fare dei prospect ragionevoli di quelle che possano essere le entrate io già ne faccio un'ipotesi di minima marfi un'ipotesi di media buon senso un'ipotesi di massima ottimismo poi prendo marfi e il buon senso e faccio la metà mi colloco non proprio marfi marfi perché lì proprio veramente ma allora sei un menagramo portigliella ma già quella mediana mi sembra troppo poi è chiaro che se un'operazione di mailing la faccio da 4 anni e tutti quegli anni mi dà quel risultato è chiaro che io so che sarà quel risultato eh ma se so in fase di start up devo procedere così contemporaneamente devo dire per fare quell'operazione quanto devo spendere tipografia parapapara parapapara il copywriter il gaggettino perché alla fine attenzione sto piano di raccolta fondi mi deve produrre 100 che fa bisogno dell'organizzazione e il nostro obiettivo è 100 più i costi di fundraising cioè io con l'azione di raccolta fondi dovrei coprire i costi video del fundraising non ci metto dentro proprio il personale perché in genere poi il personale fa molte altre funzioni imputarlo al fundraising piuttosto che alla comunicazione è un po' difficile e allora la domanda non ve la fate voi la faccio io direttamente che risparmiamo tempo è ma quanto incide mediamente il costo di fundraising sull'operazione di fundraising bella domanda diciamo che a regime un'organizzazione se riesce a contenere i costi di fundraising nell'ordine del 15 17 13% è una buona performance se li supera beh dovrebbe impegnarsi a vedere come farli scendere se sta sotto c'è qualcosa che non va state investendo troppo poco cioè forse non espletate tutto il vostro potenziale però diciamo se sta sotto non è un guaio siete bravi voi va bene diciamo così se sto però in fase di start up non è detto che il rapporto possa essere il 15% potrebbe essere anche il 30 il 40 cioè i costi iniziali evidente vi ho fatto l'esempio delle campagne di donazioni individuali il primo anno è capace che spendo mille di lettere e faccio mille lì il costo del fundraising è 100% però quei donatori se me li so ottenere fra tre anni hanno un costo del 10 15% quindi nella fase di start up il peso dei costi di fundraising rispetto alle entrate evidentemente può essere maggiore comunque il mio impegno è di tenerli i più bassi possibili e li devo coprire attraverso quest'operazione perché se no quando arrivato a dare i soldi all'organizzazione invece di dare 100 gli do 100 meno 15 e quello dice ma come faccio? ok? laddove è possibile ogni azione deve essere preceduta dal test è quello che chiedevo a voi prima di partire su larga scala in cui evidentemente il rischio aumenta perché ci impiego molto lavoro mi butto a capofitto eccetera se è possibile non sempre è possibile faccio un test e vedo le cose come vanno in genere quando faccio campagne di mailing questo è obbligatorio anche perché è possibile farlo scrivo ai 2000 avvocati aspetta scriviamo a un campione di 100 che sia rappresentativo del campione di tutti gli avvocati vediamo le risposte e l'aria che tira aggiusto il tiro oppure dico proprio lasciamo perdere oppure vedo che va bene e se è possibile mi prendo anche un altro indirizzario da 2000 avvocati l'evento non lo posso testare più di tanto lo faccio e poi vedo se l'evento 2013 quando farò quello del 2014 so come regolarmi ok? perché si procede per prove ed errori fidelizzazione sta anche su questo faccio prima qua senza cambiare slide che questo è un altro corso qua allora la fidelizzazione si fa complessivamente con quattro grandi azioni che noi dobbiamo avere sempre attiva ma non solo per fidelizzare i donatori penso che li dovremmo avere sempre lo so è una parola però piano piano gestione della cortesia gestione della informazione coinvolgimento nella organizzazione e ascolto queste sono le quattro azioni che sono funzionali ad avere rinnovo e incremento delle adesioni delle donazioni delle sponsorizzazioni gestione della cortesia è ringraziare sempre chi dà i soldi va fatto in tempo utile subito in altri termini e perché? per due ragioni prima per il rispetto delle regole sociali secondo perché il donatore questo vale soprattutto dei donatori individuali evidentemente ma anzi direi scusamente per loro quando dona è capace che ha fatto un atto emozionale non è detto che l'abbia fissato nel suo cervello che se lo ricordi ma anche proprio da un punto di stammine monico a parte il significato che gli dà è capace che ha dato dei soldi e poi boom è sparito si è ascoltato di registrare il file quando ha spento il computer il file si è perso ok? quindi ringraziamento a questa funzione di far riconoscere all'interlocutore guarda che tu hai donato oltre che rispetto della cortesia ecco perché deve avvenire in un tempo rapido perché se no è volatile sta cosa va via ti lo devi dire entro 15 giorni 20 giorni non di più ok? tant'è vero che io insegno a chi si occupa di questo di avere sempre pronto una lettera di ringraziamento che avremo deciso come va fatta appena gli arriva la notizia di una donazione ragionevolmente blocca il suo lavoro richiama quel file ci mette dentro i nomi giusti perché non bisogna ringraziare Massimo dicendogli cara Maria sei stata una persona splendida il copia e incolla è un rischio che aleggia attorno a noi sempre si fanno delle grezze incredibili e dopo di che si stampa si imbusta e appena vado a prendere il caffè si imbuca poi ognuno avrà i suoi sistemi cioè deve essere fatto in tempo reale addirittura se noi abbiamo altri canali per raggiungere il donatore ho le mail tanto gli mandi la lettera perché carta canta poi ognuno decide il suo stile apro le mail Mario mi è arrivata la tua donazione grazie sei un grande via ciao no? gestione dell'informazione devo garantire un'informazione di base al donatore che faccio che non faccio nell'ottica anche ultima domanda che ho fatto con i tuoi soldi quindi ti devo informare aggiornare avvertire con un'iniziativa che ti può interessare lo strumento tipico è la newsletter non c'è bisogno di fare tanta carta bastano poche e significative al limite io dico le piccole organizzazioni fate quattro lettere circolari due cartelle non di più quattro spedizioni l'anno è già meglio che nulla roba poca ma significativa dice ma intanto non le leggono guarda in parte è vero ma c'è una differenza fra due cose una cosa è mandarti una newsletter tu ce l'hai io ti ho dato l'opportunità di essere informato e questa è una prima cosa che io percepisco potrei percepire che tu non mi dai l'opportunità altra cosa è se la leggo poi a me interessa capire se la leggo perché se non la leggo vuol dire ok fa schifo la mia newsletter oppure c'è qualcosa che non va però intanto io devo assicurare una cosa tu hai donato e acquisisci il diritto di avere l'opportunità di avere informazioni poi se non le vuoi avere affari tuoi mettiamola giù brutalmente sarà un altro problema se io invece parto dall'idea intanto non la leggo non gliela mando lui che pure non la leggerebbe si incavola perché dice perché non mi mandate le informazioni ok poi ormai il modo per gestire le informazioni è molto variegato ormai non devo più andare in stampa soprattutto con i donatori fedeli presto si passa su un canale che è la email oppure vieni sul mio sito insomma si trova però noi sappiamo che un terzo abbondante dei donatori vuole più informazioni fatte meglio perché non ne vuole tante ma vuole più informazioni su di noi terzo coinvolgimento nell'organizzazione anche qui il concetto è uguale non è che lo devo coinvolgere per forza gli devo dare l'opportunità se vuole di entrare qua dentro e fare qualche cosa certo regolato perché non posso trovarmi qui una masnata di rompiscatole che mi dicano mi fai fare qualcosa mi fai fare qualcosa e no però io devo mandare un segnale che qui c'è la possibilità di attivarsi poi vediamo come perché una buona parte dei donatori e questo serve a fidelizzare vuole dare soldi e vuole rendersi attivo se soddisfa questo bisogno non ve lo perdete più ok poi ci si può coinvolgere in tanti modi passaparola una campagna online non è che devono per forza venire qui a fare volontariato sono io che devo dire come loro si possono coinvolgere per me quarto ascolto diciamo che se io ho il fundraising dovrei avere il mio donor relationship management eh cioè quello che per un'azienda è il customer relationship management la gestione del cliente delle relazioni con il consumatore che sia una sorta di ufficio del donatore tanto per darvi l'idea un numero verde dove il donatore può scrivere non mi ha dato a comprare il numero verde per questo però per farvi capire il concetto in cui il donatore può chiamare e dire ah non mi è arrivata la dicevuta oppure fare una proposta oppure che so altro quindi è buono in un'organizzazione che fa fundraising istituire un referente dei donatori che abbia un nome un cognome che sia palesi come essere umano perché a me quando uno dice per qualunque cosa rivolgetevi ufficio raccolta fondi et qualche cosa ma te costa tanto di Maria Assunta et cioè questa è tutta gente che da noi cerca umanità perché dobbiamo fare la vecchia burocrazia un essere umano che abbia la capacità di ascoltare e recepire quelle che sono aspettative bisogni indicazioni che vengono dall'esterno che sono un tocca sana perché è il feedback che ci danno i nostri stakeholder è una meraviglia c'è un'organizzazione Italia-Uganda che ha fatto questa operazione me l'hanno raccontata adesso al festival del fundraising è molto molto bella infatti vi ho invitati a fare un posto sul nostro blog hanno mandato ai donatori quelli più fedeli insieme alla lettera di raccolta fondi o di ringraziamento adesso non lo so un foglio bianco in cui gli hanno detto raccontate la vostra storia di donazione che è stato un modo intelligente per avere spunti non solo contenutistici anche diciamo retorici da usare nella comunicazione ma capire meglio le motivazioni che li hanno mossi se gli dicevano mi dici le motivazioni che ti hanno mosso a dare i soldi a me magari quello non capiva se io ti dico mi racconti una storia che peraltro io posso raccogliere in un libro perché questa è una storia della nostra organizzazione attraverso il storytelling dei miei donatori posso capire meglio che cosa li spinge che cosa hanno percepito della mia mission perché stanno attaccati a me quindi l'ascolto non è solo come diritto a far parlare i donatori se hanno bisogno di qualche cosa ma è anche una funzione proprio di indagine costante sui nostri donatori sono soddisfatti non sono soddisfatti perché donano eccetera tutto ciò porta a rinnovo e incremento se ci fermiamo al ringraziamento per carità abbiamo fatto la cosa principale e più urgente ma non è automatico che rinnovino siccome trovare un donatore costa un sacco è giusto investire per queste attività perché se li perdiamo è veramente l'errore peggiore accanto a tutto ciò l'abbiamo già richiamato più volte tant'è che gli fischiano le orecchie c'è il bilancio di missione io credo che entro poco tempo non credo più di due tre anni o un'organizzazione si dota di un bilancio di missione o è fuori dal mercato adesso sarà un po' drastico ma è così sarà sempre di più un discrimine non c'è il bilancio di missione il problema è duplice saperlo fare bene non può essere oggetto qui neanche di dare degli spunti ma attenzione saperlo comunicare bene perché i bilanci di missione io ne ho visti tanti cioè le organizzazioni di profit ne fanno pochissimi sono più le aziende che fanno il bilancio di missione che le organizzazioni non profit è una vergogna è vergognoso è vergognoso diciamocelo chiaramente tra di noi è vergognoso rompiamo le scatole delle aziende tu devi fare il bilancio sociale perché devi dimostrare come ti impegni per il territorio i tuoi impatti io dico io che manco ce l'ho il bilancio sociale mi occupo di integrazione sociale cultura vergognoso detta questa cosa qui che è una questione morale proprio lo dico da un punto di vista etico poi ho visto quei pochi che fanno il bilancio sociale che tende a essere sostanzialmente un esercizio di autoreferenzialità pura io sono stato bravo io sono stato bravo io sono stato bravo che si vede lontano un miglio che non è basato su un approccio scientifico di indagine scientifica è autocelebrazione proprio autoreferenzialità e questo non serve a niente è inutile totalmente inutile mentre invece il bilancio di missione deve essere fatto su criteri oggettivi deve avere degli indicatori gli indicatori sono molto semplici io ho detto qual è la mia mission devo andare a valutare se l'ho raggiunto o meno mi dovrò fare degli indicatori se la mia mission è più educazione ai ragazzi devo vedere se è aumentata la scolarità me li dirò io quali sono gli indici però alla fine io devo restituire su quello non è che posso dire abbiamo fatto l'evento e chi se ne frega rispetto alla mission quindi devo ritornare al mio statement e valutarlo la seconda caratteristica è che questa valutazione la devo fare coinvolgendo gli stakeholder se no non è bilancio sociale se no me la canto e me la suono sono buoni tutti uno dei fondamenti del bilancio sociale è che è un bilancio sugli aspetti non economici che riguardano la mission sociale e che è fatto con il coinvolgimento degli stakeholder se no è troppo semplice quindi io dovrei chiamare anche i donatori non li posso chiamare tutti ma per esempio i grandi donatori gli sponsor la fondazione che mi dà i soldi io dovrei coinvolgerlo nel mio processo di valutazione certo non è che mi viene lì a fare i questionari però magari sulla prima versione del nostro rapporto delle attività li chiamo e raccolgo il loro punto di vista valutativo di cui devo rendere conto io sarei ve lo dico sinceramente contento di un bilancio di missione che dice siamo stati bravissimi ma abbiamo fatto tre cappellate una, due, tre abbiamo capito perché le abbiamo fatte ste cappellate e quindi sappiamo come correggerle io credo che gli darei ancora più soldi mi dà molta più credibilità perché è vera e soprattutto perché mi ha chiamato a concorrere a questa valutazione e invece un'organizzazione che tutte le volte ogni botta in attacca ma chissà dio è sceso in terra ma a me non mi succede mai cioè mi puzza di falso sono come i casi di successo io nella formazione non tollero i casi di successo se capisce mai perché è avuto successo arriva una persona che autocelebra ho fatto allora il manifesto ho fatto il dépliant con il marketing del coso vedete che la redemption della perfection sono in genere sono tutti quanti così poi scava 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 dice l'amministratore delegato dell'azienda era mio cugino questo non mi hai detto ok quindi il bilancio di missione è molto molto importante lo si può fare anche in versioni semplici adesso non ho tempo di farvelo vedere ma se navigate nella nostra pagina di facebook trovate l'abbiamo postato l'esempio di una fondazione di Roma la fondazione il faro che si occupa di formazione professionale di immigrati che ha fatto un foglio una locandina molto semplice la fondazione ha numeri questi numeri in verità a parte che non sono inventati e sono il frutto del bilancio sociale sono tutti numeri che vanno a valutare indicatori tipici numero di immigrati che sono stati formati numero di immigrati che hanno trovato un lavoro numero di ore dedicate a tutti gli aspetti non didattici quindi la qualità a parte l'insegnamento che ti dà un quadro valutativo di quello che ho fatto da solo non è un bilancio di missione ma è proprio la logica del bilancio di missione loro mandano quello ai loro donatori come prima cosa oltre al grazie eccetera eccetera va bene qui vedete elencati quelli che sono i tipici strumenti che io posso usare per fare gestione della cortesia gestione dell'informazione svolgimento coinvolgimento nell'organizzazione e ascolto finish ore ore abbiamo sforato mi dispiace allora siamo ai saluti saluti quelli sono obbligatori in qualunque mio corso quindi state buoni che li dobbiamo fare per forza li preparo ecco e caspita se li preparo li preparo vanno fatti eccoci qua allora come si faceva a scuola preghiera all'inizio e preghiera alla fine mio collega Andrea Caracciolo c'è il computer che è impazzito facciamo così bastardo forte mi provo che ok ha trovato in un sito di fundraiser sudafricani questa preghiera del fundraiser sono fortissimi perdonatemi la battutaccia ci fanno neri e la tradotta molto bene dall'inglese la leggiamo così com'è un fundraiser stava in piedi di fronte alle porte del paradiso basso zoppo vecchio e rugoso sul viso si ergeva di fronte all'uomo in possesso delle chiavi del suo destino a cui chiedeva ingresso nel paradiso divino cosa hai fatto chiese San Pietro per chiedere ammissione senza che io ti spedisca indietro sono stato fundraiser o santo non l'ho fatto per poco bensì pertanto le porte del paradiso si spalancarono le campane di San Pietro suonarono entra e scegli uno strumento prendi un mantello tu hai già avuto la tua dose d'inferno poi c'è questo tizio qua che io non ho mai potuto sopportare John Rockefeller a me i filantropi americani stanno sulle scatole è una questione proprio mia personale però quando ho riscoperto questa cosa che lui ha detto nel 33 non ieri e l'ho dovuto rivalutare perché lui parlando a un pubblico di fundraiser perché il tema era le tecniche di sollecitazione quindi come sollecitare i fondi le donazioni fa questo discorso vi dovete immaginare la sceneggiatura molto statunitense John Rockefeller si alza in piedi dal palco e parla al pubblico non pensate mai di dovervi scusare perché chiedete a qualcuno di donare per una causa valida in realtà gli state dando l'opportunità di prendere parte a un ottimo investimento bravo John sei un grande perché è chiaro questo è orgoglio del fundraiser ma sì è vero noi gli diamo opportunità Jack calma ho un messaggio per te questa persona ha il dovere di donare bravo John si hanno il dovere Jack adesso arriva un messaggio per te stai calmo ha il dovere di donare almeno tanto quanto voi avete il dovere di chiedere quindi se voi non vi prendete il coraggio eliminate la vergogna la preoccupazione di andare a chiedere non potete pretendere che quello lì accetti un buon investimento o assuma il dovere di donare quindi attenzione alle vostre responsabilità dice John perché spesso il freno del fundraising non sta nel donatore sta in voi che non ci credete e se non ci credete perché vi dovrebbero dare i soldi bravo John questa almeno l'hai detta giusta e poi mi spiace ma mi devo autocitare non posso non farlo capisco che è una cosa un po' antipatica ma il motto è beato chi c'ha la palla di vetro Massimo Coincagli tutte le volte che gli chiedono ma quanto posso fare di raccolta fondi con questa campagna che è il motto di chi fa le cose scientificamente non c'ha la scienza infusa non fa il mago fare il fundraiser non vuol dire fare i maghi divinatori ma vuol dire usare scientificamente e con passione una serie di principi e vedere dove si può arrivare e questo non si fa con la palla di vetro nell'ultima slide voi troverete i vari nostri riferimenti che non sono questi perché sono cambiati quindi tranquilli io vi mando le slide adesso ci mettiamo d'accordo potete andare e segnarvi sul nostro sito gratis ci mancherebbe altro se volete ricevere le nostre aggiornamenti la nostra newsletter potete andare sul nostro blog dove seguire un po' il dibattito sul fundraising e perché no stiamo allestendo una sorta di knowledge center dove fare uno scaffale di materiale utile documenti nostri o di altri magari cercando di evitare doppioni che sono da altre parti vabbè basta e questo è quanto sostanzialmente ci volete servire su facebook fare un po' di i like intervenire fatelo ben volentieri già l'abbiamo fatto siamo già praticamente quasi tutti in rete su facebook e la grande rete è già funzionato perché come dicevo a tutti c'è un'amica mia che viene in vacanza in Salento che però sta a Firenze che dice che c'è un'amica sua del Salento che ha visto sulla sua pagina che ha detto mi piace al fatto che io sto qua che il suo figlio dell'alberghiero di Lecce vorrebbe sapere un indirizzo del museo del gusto di qua questo è social networking ok il tutto tra un mi piace che bel vino la puccia eccetera eccetera ok ottimo signori grazie troppo buoni auguri auguri per tutto e speriamo la prossima perché no quando è che facciamo un altro però Grazie.